La locanda della tormenta presenta Conan, chiodi rossi. Buon ascolto! La donna sfilò uno stivale dalla staffa d'argento e saltò giù dalla sella ricamata d'oro. Legò in fretta le redini a un alberello e si girò con le mani ai fianchi a esaminare la zona. Non era un posto invitante. Alberi giganteschi circondavano uno stagno dove il suo cavallo si era appena abbeverato. I cespugli cresciuti intorno limitavano la visuale che si apriva all'ombra fonda dei rami intrecciati in alto e la donna ebbe un brivido nelle magnifiche spalle e poi imprecò. Ella era alta, con il seno pieno, le gambe ben piantate e le spalle solide. Tutto il suo corpo emanava una forza non comune, senza nulla togliere la sua femminilità. Era decisamente una donna, malgrado il contegno e gli abiti. Questi ultimi erano molto succinti, adatti all'ambiente. Invece della gonna portava un paio di pantaloni corti e larghi di seta che terminavano a un palmo sotto il ginocchio e venivano sorretti da una fascia di seta arrotolata in vita a mo' di cintura. Gli stivaloni di pelle morbida dalla punta luccicante che le arrivavano quasi al ginocchio e una camicia scollata a maniche larghe completavano l'abbigliamento. Su un fianco ben tornito le pendeva una spada a doppio taglio e sull'altro un lungo pugnale. I capelli d'oro ribelli, tagliati all'altezza delle spalle, erano trattenuti da una fascia di seta rossa. Contro lo sfondo cupo di quella foresta primitiva, ella costituiva una nota pittorica inconsapevole, bizzarra e fuori posto. Avrebbe potuto stare in posa contro uno sfondo di nuvole marine, pennoni colorati, gabbiani in volo. C'era il colore del mare in quegli occhi grandi ed era così che doveva essere, perché quella era Valeria della confraternita rossa, le cui imprese venivano celebrate nelle canzoni e nelle ballate in ogni luogo in cui i naviganti facevano festa. La ragazza cercò di penetrare con lo sguardo attraverso il verde tetto di foglie della foresta per vedere il cielo e invece, soffocando un'imprecazione, vi dovette rinunciare. Lasciando legato il cavallo, camminò velocemente in direzione est, girandosi ogni tanto a guardare verso lo stagno per fissare bene in mente la strada. Il silenzio della foresta la deprimeva. Non si sentiva canto d'uccelli tra i rami alti, né frusciava foglia che indicasse la presenza di qualche bestiola. Aveva percorso intere leghe in un regno di silenzio, rotto soltanto dai rumori della sua fuga. Aveva placato la seta allo stagno, ma adesso sentiva i morsi della fame e cominciò a guardarsi intorno alla ricerca di un po' di frutta che la potesse sostenere adesso che aveva esaurito la scorta di cibo delle sue bisacce. Dopo un po', si ritrovò davanti a un agglomerato di rocce scure, probabilmente silice, tra le quali si ergeva verso l'alto, affiorando tra gli alberi, una sorta di rupe frastagliata. La sommità era nascosta da un nugolo di foglie. Forse superava la cima degli alberi e da lì si sarebbe potuto vedere cosa c'era oltre. Se c'era davvero qualcosa in quella foresta, apparentemente sconfinata, nella quale ella cavalcava da giorni. Uno stretto costone creava una scala naturale che portava sulla liscia parete frontale della rupe. Dopo essere salita per una ventina di metri, Valeria arrivò alla cintura di foglie che circondava la sommità. I tronchi degli alberi non erano fitti, ma i loro rami si stendevano tutti intorno, celando la vetta con il fogliame. Valeria cercò di vedere meglio, arrampicandosi in mezzo a quella massa verde, e finalmente scorse il cielo azzurro. Un secondo dopo si ritrovò alla piena luce del sole e vide stendersi sotto di lei il tetto della foresta. Stava in piedi su una sporgenza dalla roccia all'altezza delle cime degli alberi. Da lì si innalzava uno sperone che costituiva la vetta del picco da lei scalato. Ma in quel momento qualche altra cosa attirò la sua attenzione perché aveva messo un piede su un oggetto nascosto sotto le foglie morte che ricoprivano la cengia. Le tolse con lo stivale e le apparve il teschio di un uomo. Esaminò con occhio esperto quella bianca reliquia, ma non vide ossa rotte né altri segni di violenza. Quell'uomo doveva essere morto di morte naturale, anche se non riusciva a immaginare perché mai avesse scalato quella roccia. Si arrampicò sullo spuntone e scrutò l'orizzonte. Il tetto della foresta, che dal suo punto di osservazione pareva un tappeto, era impenetrabile, esattamente come appariva dal basso. Valeria non riusciva neanche a vedere lo stagno presso il quale aveva lasciato il suo cavallo. Guardò verso nord, nella direzione dalla quale era venuta. Vide soltanto quell'oceano di verde che si perdeva lontano, con una sottile linea azzurra costituita dalla catena montuosa che aveva attraversato qualche giorno prima, per poi confondersi in quella distesa sterminata di foglie. A ovest e ad est, il panorama era sempre lo stesso, anche se la linea azzurra dei monti cominciava a scomparire. Ma quando spostò lo sguardo a sud, rimase col fiato sospeso. A un miglio di distanza, la foresta si assottigliava e poi si interrompeva bruscamente. Cedeva il passo a una pianura di cactus e in mezzo a tale pianura sorgevano le mura e le torri di una città. Valerio imprecò in preda allo sbalordimento. Incredibile! Vedere delle abitazioni umane con le casupole ad alveare dei neri o le abitazioni rupestri della misteriosa razza dalla pelle bronzea che, stando alle leggende, abitava una terra di quella regione inesplorata non l'avrebbe sorpresa. Ma trovare una città con tanto di mura a settimane intere di marcia dal più vicino avamposto della civiltà era un'esperienza sconvolgente. Staccando le mani, stanchi, dal pinnacolo, si lasciò cadere sulla sporgenza, aggrottando la fronte indecisa. Si era spinta lontano. Dal campo dei mercenari vicino alla cittadella di confini di Sukmet era arrivata le praterie, dove avventurieri senza scrupoli appartenenti a tutte le razze difendevano la frontiera stigia dai razziatori che arrivavano a ondate rosse da Darfar. La sua era stata una fuga alla cieca in un paese completamente sconosciuto e adesso era combattuta tra il desiderio di dirigersi immediatamente alla città della pianura e la cautela che le suggeriva l'istinto dicendole di passare alla larga e continuare la sua fuga solitaria. I suoi pensieri vennero interrotti da un frusciare di foglie sotto la rupe. Si girò l'esta come un gatto e impugnò la spada e poi si immobilizzò fissando a bocca aperta l'uomo che le stava davanti. Egli era quasi un gigante con i muscoli rigonfi sotto la pelle liscia brunita dal sole. Aveva un abbigliamento simile al suo a eccezione di un cinturone di pelle che portava al posto della fusciacca e dal quale pendevano una spada larga lama e un pugnale. Conan il cilmero! Che diavolo fai sulla mia strada? L'uomo aveva un sorriso truce e nei suoi fieri occhi azzurri brillava una luce inequivocabile per qualunque donna mentre li posava sul suo corpo magnifico indugiando sul turgore degli splendidi seni che trasparivano dalla camicia leggera e sulla pelle bianca e liscia che si vedeva tra i calzoni e gli stivali. Non lo sai? Non ho espresso la mia ammirazione per te con sufficiente chiarezza dalla prima volta che ti ho visto? Uno stallone non avrebbe potuto essere più chiaro. Ma non avrei mai creduto di incontrarti tanto lontano dalle taverne e dalle cucine di Sukmet. Davvero mi hai seguita fuori dal campo di Zarallo o ti hanno scacciato come una canaglia? Conan rise di quell'insolenza e piegò i possenti bicipiti. Sai, Zarallo non aveva abbastanza sgherri per farmi buttare fuori dal campo. Ovviamente ti ho seguita ed è stata una fortuna per te, donna. Quando hai accoltellato quell'ufficiale ti sei giocata il favore e la protezione di Zarallo e sei diventata una fuorilegge per tutti gli stigiani. Lo so, ma che altro potevo fare? Lo sai come mi ha provocato? Certo, se mi fossi trovato lì l'avrei accoltellato io stesso. Ma se una donna vuole vivere in un accampamento di soli uomini deve aspettarsi certe cose. Perché i uomini non mi lasciano vivere come un uomo? È ovvio! Ma sei stata saggia a scappare. Gli stigiani ti avrebbero fatto la pelle. Il fratello di quell'ufficiale ti ha seguita e più in fretta di quanto tu pensi, stanne certa. Non era molto lontano da te quando l'ho incontrato. Il suo cavallo era più veloce del tuo. Ti avrebbe presa e sgozzata entro poche miglia. E allora? Allora cosa? Cosa ne è stato dello stigiano? Tu cosa credi? L'ho ucciso ovviamente e ho lasciato la sua carcassa in pasto agli avvoltoi. Ma questo mi ha fatto ritardare e ho quasi perso le tue tracce quando hai attraversato le rocce sotto le montagne. Altrimenti ti avrei raggiunta molto tempo prima. E adesso credi di potermi trascinare di nuovo al campo di Zarallo? Non fare la stupida. Avanti ragazza non essere così velenosa. Non sono come il bell'imbusto che hai accoltellato. E tu lo sai. Sei uno straccione vagabondo. E tu come ti definisci? Non hai abbastanza denaro per comprarti un fondo nuovo per i calzoni. Il tuo disprezzo non mi inganna. Lo sai che ho comandato navi più grandi e più uomini di quanti tu ne abbia comandati in vita tua. Quanto al fatto che mi ritrovo squattrinato quale vagabondo non lo è e per gran parte del suo tempo. Ho sperperato tanto oro nei porti di mare di tutto il mondo da poterci riempire un galeone. E sai bene anche questo. Dove sono adesso le belle navi e gli uomini coraggiosi che comandavi? Ma in fondo al mare principalmente. Gli zingariani hanno affondato la mia ultima nave davanti alla costa scema che si è unita. Per questo mi sono unito ai liberi compagni di Zarallo. Ma ho capito di aver fatto un errore quando abbiamo marciato sulla frontiera di Darfar. La paga era misera e il vino era amaro e le donne nere a me non piacciono. E le sole che si vedono al nostro campo di Sukhmet avevano l'anello al naso e anche i denti rotti. Bah! E tu invece perché ti sei unita a Zarallo? Sukhmet è molto lontana dal mare. Orso Rosso voleva fare di me la sua donna. Una notte mi sono tuffata in mare e ho nuotato fino a riva. Una notte mi sono tuffata in mare e ho nuotato fino a riva mentre eravamo ancorati al largo della costa cuscita davanti a Zabela. Lì un mercante scemita mi ha detto che Zarallo aveva condotto a sud i liberi compagni per difendere la frontiera di Darfar. Non mi offrivano prospettive migliori. Così mi sono unita a una carovana che andava ad est e alla fine sono arrivata a Sukhmet. È stata una pazzia spingersi così a sud ma al tempo stesso è stato saggio perché le pattuglie di Zarallo non penserebbero mai di cercarti in questa direzione. Soltanto il fratello dell'uomo che hai ucciso ha trovato per caso le tue tracce. E adesso cosa intendi fare? Prendere a Ovest sono stato a sud di questa terra ma mai ad est. Diversi giorni di cavallo verso Ovest ci porteranno nelle aperte savane dove le tribù indigene portano a pascolare le loro mandrie. Ho degli amici tra loro arriveremo alla costa e troveremo una nave. Io ormai sono stanco della giungla. E allora vattene per la tua strada. Io ho altri piani. Non fare la stupida non puoi continuare a vagare per la foresta. Invece sì se voglio. Ma che cosa vorresti fare? Questi non sono affari tuoi. Certo che lo sono. Credi che ti abbia seguita fin qui per far girare il cavallo e andarmene a mani vuote? Sì ragionevole donna non intendo farti del male. Conan fece un passo in avanti e Valeria scattò all'indietro sfoderando la spada. Sta lontano cane di un barbaro o ti infilzerò come un maiale arrosto. Conan si arrestò riluttante e le chiese Vuoi forse che ti tolga quel giocattolo e ti dia una scuracciata? Parole soltanto parole. Lo sbeffeggiò lei con due occhi scintillanti come il sole sull'acqua azzurra. Conan sapeva che era vero. Nessun uomo poteva disarmare Valeria della confraternita a mani nude. Si ritrovò in un groviglio di emozioni contrastanti. Era arrabbiato ma al tempo stesso divertito e pieno d'ammirazione per tanto spirito. Bruciava dalla voglia di afferrare quel corpo splendido e stritorarlo tra le sue braccia di ferro. Eppure non desiderava assolutamente far del male alla ragazza. Era combattuto tra il desiderio di sculacciarla sonoramente e il desiderio di accarezzarla. Sapeva che se si fosse avvicinato la spada di lei gli avrebbe trapassato il cuore. Aveva visto Valeria uccidere troppi uomini nelle faide di frontiera e nelle risse d'austeria per illudersi in proposito. Sapeva che era svelta e feroce come una tigre. Poteva sfoderare lo spadone e disarmarla, toglierle la lama dalle mani, ma il solo pensiero di alzare la spada contro una donna anche senza l'intenzione di ferirla gli ripugnava. E la tua anima bruci, donna! Intendo toglierti là! Avanzò verso di lei perdendo completamente la testa e Valeria si preparò a un affondo mortale. Poi ci fu una sorprendente interruzione di quella scena al tempo stesso comica e pericolosa. Valeria gridò ma entrambi sussultarono violentemente e Conan si girò come un gatto facendo guizzare lo spadone tra le mani. Dal fondo della foresta giunsero nitriti di dolore strazianti, quelli di cavalli terrorizzati e agonizzanti insieme alle loro grida si udì anche uno schianto d'ossa. I leoni hanno assalito i cavalli! Leoni un corno! Hai forse sentito ruggire un leone? Beh nemmeno io! Ascolta quel rumore d'ossa spezzate! neppure un leone farebbe tanto rumore nell'uccidere un cavallo! Corse giù per la scala naturale e Valeria lo seguì dimentichi entrambi del loro alterco personale nello spirito dell'avventura che li univa dinanzi al comune pericolo. i nitriti erano cessati quando scesero giù e si fecero largo tra il fogliame che ricopriva la roccia ho trovato il tuo cavallo legato presso quello stagno laggiù ho legato il mio accanto al tuo e ho seguito le orme dei tuoi stivali adesso in guardia erano usciti dal fogliame sopra di loro il tetto verde spiegava il suo scuro baldacchino sotto di loro la luce del sole filtrava appena creando un crepuscolo verdeggiada i tronchi giganteschi degli alberi a meno di 100 metri avevano un aspetto cupo e spettrale i cavalli dovrebbero trovarsi oltre quel boschetto laggiù sussurrò Conan e la voce avrebbe potuto essere il vento che stormiva fra le fronde ascolta Valeria aveva già sentito e le sigelò il sangue inconsciamente posò la mano Nivea sul braccio abbronzato e muscoloso del compagno dai cespugli si udiva un rosicchiare d'ossa un suono di carne dilaniata un digrignare di zanne e uno slappare di lingue bavose impegnate in un macabro festino i leoni non farebbero quel rumore qualcuno sta divorando i nostri cavalli ma non è un leone per crom il rumore cessò improvvisamente e Conan imprecò sottovoce di colpo si era alzato il vento portando il loro odore direttamente verso il punto in cui era nascosto l'ignoto aggressore eccolo mormorò Conan sollevando a metà la spada nei cespugli ci fu un'agitazione violenta e Valeria strinse il braccio di Conan pur non conoscendo le leggende sulla giungla sapeva che nessun animale poteva scuotere le piante a quel modo deve essere grosso come un elefante che diavolo e poi Conan si è improvvisamente dai cespunti spuntò una testa da incubo e follia le mascelle di grignanti erano munite di file di zanne gialle unte di baba sopra la bocca spalancata spuntava un muso da rettile gli enormi occhi simili a quelli di un pitone ma ingigantiti mille volte scrutavano fissamente le due creature umane le quali come paralizzate si tenevano strette alla roccia sovrastante colava sangue dalle labbra cascanti e scagliose e dall'interno dell'immensa bocca la testa protrusa più grossa di quella di un coccodrillo sporgeva da un lungo collo squamoso sul quale spuntavano fitti aculei poi compariva un corso titanico gigantesco cilindrico posato su due zampe incredibilmente corte sotto le quali la bestia schiacciava rovi e arboscelli la pancia biancastra quasi sfiorava il terreno mentre la schiena arrivava più in alto di conan se questo si fosse sollevato in punta di piedi una lunga coda uncinata simile a quella di un enorme scorpione si torna sopra la roccia svelta non credo che riesca a scalarla ma posso allevarsi sulle zampe e raggiungerci schiantando spezzando roveti e arboscelli il mostro si lanciò tra cespugli mentre i due salivano in cima alla rupe con la leggerezza di due foglie sollevate dal vento mentre si girava a lanciare uno sguardo tra il fogliame Valeria vide il la gettone il panico mentre si sollevava la bestia appariva più gigantesca che mai e la sua testa proboscidata torreggiava sopra gli alberi allora Conan prese la donna per il polso con una stretta di ferro e la trascinò precipitosamente tra le foglie e poi di nuovo sotto il cielo aperto proprio mentre il mostro piombava con le zampe anteriori sulla loro roccia facendola tremare sotto il colpo alle loro spalle l'immensa testa si intrufolò tra le frasche e i due fuggitivi guardarono giù per un orribile istante il muso da incubo incorniciato dalle foglie verdi gli occhi fiammeggianti e le fauci spalancate poi le zanne smisurate si serrarono inutilmente e alla fine la testa si ritrasse e scomparve come che sfioravano la roccia i due videro che il mostro si era accovacciato ai piedi della rupe e che li fissava dal basso con due occhi magnetici valeria rabbrividì per quanto tempo credi che resterà così conan dette un calcio al teschio posato sopra la coltre di foglie questo qui deve essersi arrampicato quassù per sfuggirgli o per sfuggire a sarotte quell'animale deve essere uno di quei draghi di cui parlano le leggende dei neri se è così non ci lascerà in pace finché non saremo morti valeria lo guardò ammutolita senza provare più alcun risentimento lottava contro il panico che minacciava di travolgerla aveva dato prova del proprio coraggio indomito in mille battaglie combattute sia in terra che in mare sopra i ponti delle navi ricoperti da sangue e negli assalti alle mura delle città sulle spiagge sabbiose dove i disperati della confraternita rossa bagnavano i coltelli con loro stesso sangue battendosi a morte per avere il comando un coltellaccio da marinaio non le faceva nessuna paura nel mezzo della battaglia ma starse ne sedita impotente su una nuda roccia aspettando di morire di fame assediata da un mosquoso superstite di un'epoca preistorica beh questo pensiero la faceva impazzire di panico dovrà pure andarsene per bere e mangiare ma non dovrà andare molto lontano per farlo si è appena saziato di carne di cavallo e da bravo serpente può resistere molto tempo senza bere senza mangiare purtroppo però temo che non dorma dopo lo spuntino come farebbe un vero serpente comunque non può arrampicarsi fin quassù conan rimaneva imperturbabile era un barbaro e la pazienza infinita delle creature selvagge faceva parte della sua natura non meno delle passioni e delle ire riusciva a sopportare una situazione come quella con una freddezza impensabile in una persona civile non potremmo passare tra gli alberi aggrappando i loro rami come scimmie conan scosse la testa ci ho già pensato ma le liane che arrivano sulla nostra rupe sono troppo leggere si spezzerebbero sotto il nostro peso e poi credo proprio che quel demonio potrebbe sradicare tutti gli alberi dei paraggi e allora resteremo qui seduti sui nostri posteriori ad aspettare di morire di fame io non lo farò scenderò giù e gli taglierò quella maledetta testa conan si era seduto su uno spuntone sotto la cima della rupe guardò con ammirazione quegli occhi ardenti e quel corpo fremente di collera tuttavia intuendo che la ragazza era sull'orlo di una crisi isterica non le espresse la propria ammirazione siediti stai tranquilla e calmati spezzeresti soltanto la lama contro quelle scaglie ti inghiottirebbe in un solo boccone oppure ti schiaccerebbe come un uomo con quella sua coda uncinata poi in qualche modo ne usciremo ma non sarà certo facendoci divorare inghiottire da lui Valeria non rispose né cercò di allontanare il braccio che la stringeva alla vita aveva paura ed era una nuova sensazione per la Valeria della confraternita rossa così rimase seduta sulle ginocchia del suo compagno o del suo catturatore con una docilità che avrebbe sbalordito Zarallo l'uomo che la temeva come se fosse un diavolo in gonnella uscito dal sarraglio dell'inferno Conan giocherellò pigramente con i suoi riccioli biondi preso unicamente dalla conquista nemmeno lo scheletro creevano i suoi pensieri o attenuavano l'interesse che nutriva in quel momento gli occhi inquieti della ragazza scrutando tra il fogliame scoprirono delle chiazze di colore era frutta delle grosse sfere rosso scuro attaccate ai rami di un albero dalle foglie larghe e particolarmente verdi si rese conto di avere sia fame che sete sebbene la sete non l'avesse assalita finché non si era resa conto che non poteva scendere dalla roccia cercare cibo e acqua conan guardò verso il punto indicatogli ragazza se mangiamo quei frutti non sarà più necessario farsi mordere da quel drago i neri di cusce le chiamano le mele di d'archeta d'archeta è la regina dei morti prova bere un po' del loro succo oppure fattelo cadere sulla pelle e sarai morta prima di ruzzolare ai piedi di questa rupe valeria sprofondò in un cupo silenzio sembrava proprio che non ci fosse via di uscita da quella situazione e riflette questo con uno sgomento incredibile non riusciva a vedere come poteva fuggire eppure conan sembrava preso unicamente dalla sua vita snella e dai suoi riccioli se stava pensando a un piano di fuga di sicuro non lo stava dando a vedere se mi togli le mani di dosso e sali su quello spuntone vedrai qualcosa che ti stupirà conan le lanciò uno sguardo incuriosito poi obbedì scrollando le spalle massicce arrampicandosi sullo spuntone scrutò il tetto della foresta rimase in silenzio per un lungo momento immobile come una statua di bronzo collocata sulla roccia è una città con le mura era lì che stavi andando quando volevi mandarmi da solo sulla costa l'ho vista prima che tu arrivassi ne ignoravo completamente l'esistenza quando ho lasciato Sukhmet chi avrebbe mai pensato di trovare una città da queste parti non credo che gli stigiani si siano mai spinti fin qui ritieni che i neri saprebbero costruire una città come quella non ho visto bestiame sulla prateria né segni di agricoltura né di gente come potresti vedere tutto questo da una distanza simile Conan scrollò le spalle e scese giù dalla cengia comunque in questo momento gli abitanti di quella città non possono aiutarci e forse non lo farebbero neanche se potessero la gente dei paesi neri solitamente ostile con gli stranieri probabilmente ci infilzerebbero con le loro lance all'improvviso Conan si immobilizzò e si interruppe come se avesse scordato che cosa stava dicendo e guardò accigliato le mele rosse che luccicavano tra le foglie lance che idiota sono stato non pensarci prima ecco la dimostrazione di cosa può fare una bella donna al cervello di un uomo di che vai parlando? senza risponderle Conan si avvicinò alle fronde e guardò giù il mostro era sempre accovacciato lì sotto e sorvegliava la roccia con la spaventosa pazienza dei rettili probabilmente era così che uno della sua razza aveva guardato i loro antenati trogloditi all'alba dei tempi rifugiatisi sopra una rupe come quella Conan lo maledisse con freddezza e cominciò a tagliare i rami arrivando a prenderli fin dove poteva il movimento delle fronde allarmò il mostro che si rialzò e cominciò di menare furiosamente la sua orribile coda sradicando gli arbusti come fossero fuscelli Conan lo controllò con la coda dell'occhio e quando Valeria credette che il drago stesse per avventarsi nuovamente contro la roccia il cimero indietreggiò e tornò sulla vetta con i rami che aveva tagliato ce n'erano tre della lunghezza di circa due metri affusolati come aste ma non più larghi del suo pollice doveva tagliare anche di vitici robusti questi rami sono troppo leggeri per usarli come lance e rampicanti troppo sottili non reggerebbero ma l'unione fa la forza ce lo dicevano sempre rinnegati di aquiloni a noi cimmeri quando sono arrivati sulle montagne in cerca di uomini per attaccare il loro paese ma noi combattiamo sempre in clan e in tribù e questo che diavolo c'entra con quelle aste aspetta e vedrai dopo aver unito i rami saldamente Conan infilò un'estremità l'elsa del pugnale poi con le liane li legò insieme e quando ebbe completato l'opera ottenne una lancia abbastanza robusta con una punta affilata e lunga due metri a cosa ti servirà? mi hai detto che una lama non riesce a penetrare le sue scaglie avvicinandosi alle fronde Conan allungò la lancia e vi infilò una mela di darchera spostandosi di lato per evitare le gocce rosse che colavano dal frutto poi sfilò la lama e le mostrò la macchia rosso scuro rimasta sull'acciaio azzurro non so se funzionerà o no c'è abbastanza veleno da uccidere un elefante ma beh vedremo quando il barbaro si lasciò cadere sui rami Valeria lo seguì e rimase lì vicino tenendo cautamente a distanza la picca abbelenata e Conan infilò la testa tra le foglie e chiamò il mostro che cosa stai aspettando laggiù figlio di genitori ignoti infila di nuovo il tuo brutto testone qui dentro collo lungo o preferisci che venga giù a staccarti quella promoscida illegittima il barbaro aveva in serbo molte altre offese come quella alcune di un'eloquenza che lasciò Valeria bocca aperta malgrado l'educazione profana ricevuta fra i marinai e alla fine tutte quelle provocazioni ebbero effetto sul mostro come l'abbaiare continuo di un cane irrita e infastidisce gli animali di natura più silenziosa la voce stentorea dell'uomo a certe bestie incute paura e collera irrefrenabile ad altri all'improvviso con una sveltezza stupefacente il mastodontico mostro si sollevò sulle zampe posteriori e allungò il tronco il collo nello sforzo furioso di raggiungere quel pigmeo che disturbava con la sua voce squillante il silenzio primordiale del suo antico regno Conan però aveva calcolato le distanze con precisione e a un metro e mezzo da lui sentì che il testone della bestia urtava vanamente contro le foglie e quando aprì la bocca raccapricciante che sembrava quella di un grosso sarpente Conan infisse la sua lancia nell'angolo rosso della mascella ve la conficcò con tutta la forza di entrambe le braccia infilando fino all'elsa la lunga lama del pugnale nella carne nei tendini e nelle ossa della bestia le mascelle del mostro si strinsero convulsamente spezzando la tripalancia e facendo quasi cadere Conan dal suo riparo e il cimmero sarebbe caduto veramente se la ragazza con uno sforzo disperato non l'avesse trattenuto per il cinturone Conan si aggrappò uno spuntone di roccia e le sorrise con un ghigno per ringraziarla giù a terra il bestione spalancava le fauci come un cane e con il pepe agli occhi scuoteva la testa giù da una parte e dall'altra e apriva continuamente la bocca fino al massimo poi posò una grossa zampa anteriore sul moncone dell'asta e riuscì a tirar fuori la lama allora sollevò la testa con le fauci spalancate che sputavano sangue e guardò in alto verso la roccia con una collera così consapevole e così intensa che Valeria tremò e ritirò la spada le scaglie che ricoprivano il tronco e i fianchi da color ruggine che erano divennero di un rosso cupo poi e questa fu la cosa più orribile il mostro ruppe il silenzio e i suoni che uscirono dalle sue zanne gocciolanti di sangue non parevano venire da una creatura terrena emettendo dei ruggiti gutturali e striduli il drago si lanciò contro la rocca forte dei nemici la sua testa si allungò ripetutamente verso l'alto schiacciando i rami degli alberi ma colpì soltanto l'aria allora si buttò di peso con la sua massa poderosa contro la roccia facendola tremare da cima a fondo quindi alzandosi sulle zampe anteriori come un uomo cercò di sradicarla dalla base come se fosse un albero lo spettacolo di quella furia primordiale agghiacciò il sangue a Valeria mentre Conan era troppo vicino all'elemento primitivo per provare qualcosa di più di un vivo interesse per il barbaro non esisteva differenza tra l'uomo e l'animale come esisteva invece nella concezione di Valeria il mostro sotto di loro per Conan era semplicemente una forma di vita diversa da lui principalmente nell'aspetto fisico egli gli attribuiva caratteristiche umane e vedeva nella sua rabbia le sue stesse manifestazioni di collera e nei suoi ruggiti e ululati una risposta alle offese che lui gli aveva fatto con le proprie provocazioni sentendosi simile a tutte le creature selvagge perfino ai draghi era impossibile per lui provare l'orrore che assaliva Valeria alla vista della ferocia del bruto e così Conan rimase tranquillamente seduto a guardare il bestione indicando mano a mano tutti i cambiamenti che avvenivano nella sua voce e nei suoi gesti il veleno comincia a fare effetto non ci credo a Valeria pareva assurdo ipotizzare che qualche cosa anche letale potesse fare effetto su quella montagna di muscoli e di furia c'è dolore nella sua voce prima era soltanto arrabbiato per via della ferita alla bocca adesso invece sente il morso del veleno guarda un po' sta già vacillando non ci vedrà più nel giro di pochi minuti che ti dicevo improvvisamente infatti il drago si girò e ricadde con uno schianto sui cespugni se ne sta andando si sta dirigendo allo stagno il veleno gli mette sete andiamo tra pochi minuti sarà cieco ma sarà sempre in grado di ritrovare la strada avvalendosi del suo olfatto e se sentirà ancora il nostro odore resterà qui sotto finché non morirà e alle sue urla potrebbero arrivarne altri muoviamoci scendiamo giù certo ci dirigeremo verso la città forse ci taglieranno la testa ma è la nostra unica possibilità potremmo imbatterci in centinaia di altri draghi lungo la strada ma restare qui significa morte certa se aspettiamo che questo muoia potremo essere costretti ad affrontarne una dozzina seguimi donna di corsa Conan scese giù l'esto come una scimmia fermandosi soltanto per aiutare la compagna che non era agile come lui la quale prima di vedere come si arrampicava il cimmaro aveva creduto di essere pari a qualunque uomo nell'attaccare una nave o nello scalare una parete liscia si calarono tra le fronde buie e scivolarono a terra silenziosamente anche se Valeria era certa che il battito del suo cuore doveva sentirsi da molto lontano un rumore di lappate di gorgogliamenti dietro i fittici espugli indicava che il mostro si stava beverando allo stagno non appena si sarà riempito la pancia tornerà indietro potrebbero volerci delle ore prima che il veleno lo uccida se davvero ci riuscirà oltre la foresta il sole stava calando all'orizzonte la giungla era un luogo buio e nebbioso pieno di ombre nere e voragini scure Conan afferrò Valeria per un polso e la fece girare intorno alla roccia faceva meno rumore del vento che passa tra i tronchi degli alberi mentre Valeria aveva la sensazione che i suoi morbidi stivali tradissero la loro fuga comunicandola a tutta la foresta non credo che possa seguire una pista ma se il vento si alza e gli porta il nostro odore potrebbe ritrovarci per mitra allora speriamo che il vento non si alzi aveva il volto pallido alla luce del crepuscolo nella mano libera impugnava la spada ma il contatto dell'elsa zigrinata le dava soltanto una sensazione di impotenza erano ancora parecchia distanza dal limitare della foresta quando sentirono uno schiocco e uno schianto alle loro spalle Valeria si mosse un labbro per non gridare ci segue Conan scosse la testa non ha più sentito il nostro odore sotto la roccia che sta brancolando alla cieca per la foresta per ritrovare la nostra scia andiamo adesso o la città o niente il mostro potrebbe buttare giù qualunque albero se ci arrampicassimo se non si alza il vento e andarono avanti cautamente finché gli alberi cominciarono a diradarsi alle loro spalle la foresta era un mare impenetrabile di ombre gli schianti minacciosi seguitavano schioccare dietro di loro mentre il drago continuava alla cieca la sua caccia c'è la pianura laggiù ancora un po' e per crom per mitra da sud si era alzato il vento soffiava direttamente verso di loro dal fondo della foresta in quell'istante un orrendo boato scosse i boschi gli schianti occasionali dei cespugli adesso divennero continui il drago stava arrivando come un ciclone nel punto in cui aveva sentito l'odore dei suoi nemici corri non possiamo fare altro sbraitò Conan con gli occhi scintillanti come quelli di un lupo preso in trappola gli stivali da marinaio non sono fatti per correre e la vita di un pirata non richiede l'addestramento alla corsa dopo qualche centinaio di metri Valeria era già senza fiato e aveva rallentato l'andatura alle loro spalle il rumore di rami spezzati venne sostituito da un boato il mostro usciva dai cespugli in campo aperto il braccio di ferro di Conan stretto intorno alla vita della donna quasi la sollevava i piedi di lei sfioravano appena il terreno mentre lui la trascinava a una velocità che da sola non sarebbe mai riuscita a raggiungere se riuscivano se riuscivano a tenersi alla larga della bestia ancora per un po' forse il vento traditore sarebbe mutato ma invece il vento teneva e una rapida occhiata indietro rivelò a Conan che il mostro li aveva quasi raggiunti arrivando come una galea da guerra sospinta all'uragano il cimbero allontanò Valeria con una forza che la fece capitombolare a diversi metri di distanza ai piedi dell'albero più vicino quindi si parò davanti al titano che veniva alla carica convinto di essere prossimo alla morte Conan agì distinto e si lanciò con tutto il corpo contro il muso della bestia fece un balzo colpendo con la spada come un gatto selvatico e sentì che la lama affondava nelle scaglie che proteggevano la possente proboscide poi una botta terribile lo fece rotolare a terra per quasi 200 metri senza fiato e più morto che vivo come il cimbero più morto che vivo fosse riuscito rimettersi in piedi non lo seppe mai neanche lui l'unico pensiero che aveva in testa era la donna che giaceva stordita e impotente sulla strada di quel diavolo e prima che il fiato gli tornasse in gola era già accanto a lei a spada tratta Valeria era rimasta a terra dove era stata scagliata ma stava cercando di rimettersi su non era stata nemmeno sfiorata dalla bestia mentre invece Conan era stato colpito da una zampata anteriore il mostro accecato dimenticando le vittime che stava inseguendo nell'agonia della morte si lanciò in una corsa folle a capofitto finché si schiantò con la testa contro un albero gigantesco che si trovava sulla sua strada l'impatto diverse l'albero dalle radici e probabilmente fracassò il cranio del mostro albero e bestia caddero insieme e i due giovani storditi videro le fronde e i rami scossi dalle convulsioni dell'animale che li schiacciava e poi fu silenzio Conan aiutò Valeria a rimettersi in piedi e insieme si allontanarono velocemente qualche minuto dopo emersero nel crepuscolo che regnava sulla pianura brulla il barbaro si fermò un attimo a guardare la cintura d'ebano alle loro spalle non si muoveva una foglia non cantava un uccello la foresta era silenziosa come doveva essere prima della creazione dell'uomo andiamo dobbiamo muoverci se altri draghi dovessero uscire dai boschi per inseguirci non era necessario finire la frase la città sembrava molto distante vista dalla pianura il cuore di Valeria batteva quasi a levarle il respiro ad ogni passo si aspettava di sentire schioccare i rami e vedere un altro incubo colossale pronto a caricarli nulla però disturbava il silenzio dei cespugli quando ebbero messo il primo miglio di distanza tra loro e i boschi Valeria tornò a respirare più tranquillamente e cominciò a ritrovare anche un po' di fiducia in se stessa il sole era tramontato e sulla pianura si stavano infittendo le tenebre rischiarate leggermente dalle stelle la cui luce conferiva ai cactus forme fantasmagoriche niente bestiame niente terre coltivate e come vive questa gente forse avranno rinchiuso il bestiame negli ovili per la notte e i campi e i pascoli si troveranno dall'altra parte della città forse ma non ne ho visto neanche l'ombra dall'alto della roccia dietro la città spuntò la luna illuminando le mura e le torri col suo chiarore giallastro Valeria rabbrividì vista sotto la luna quella strana città aveva un aspetto sinistro forse Conan ebbe la medesima sensazione perché si fermò si guardò intorno e mugugnò ci fermiamo qui inutile arrivare alle loro porte di notte probabilmente non ci farebbero entrare e poi ci serve un po' di riposo e non sappiamo come ci riceveranno qualche ora di sonno ci rimetterà in forma per domani in caso dovessimo combattere o scappare Conan fece strada fino ad un anfratto contornato di cactus che crescevano in cerchio un fenomeno comune nel deserto meridionale con la spada si creò un barco e fece cenno a Valeria di entrarci almeno qui saremo al sicuro dai serpenti Valeria guardò con apprensione la linea che delineava l'inizio della foresta a circa sei miglia di distanza e se un drago uscisse dai boschi faremo la guardia le rispose il cimero anche se non le disse che cosa avrebbero fatto in quel caso stava guardando la città lontana molte miglia non brillava neanche una luce sulle guglie e sulla torre come una grande massa nera piena di misteri si ergeva cripticamente sotto la luce della luna sdraiati e riposati farò io il primo turno di guardia lei esitò guardandolo indecisa ma Conan si sedette a gambe incrociate nella minuscola radura con la faccia rivolta alla pianura e la spada posata sulle ginocchia dandole le spalle senza dire altro Valeria si sdraiò sulla sabbia dentro al cerchio di Cactus l'ultima immagine che Valeria vide prima di sprofondare nel sonno fu la sua figura muscolosa immobile come una statua di bronzo profilata sotto le stelle che pendevano basse 2 per la fiamma delle gemme di fuoco Valeria si svegliò di soprassalto rendendosi conto che la luce grigia dell'alba si stava diffondendo sulla pianura si mise a sedere e si sfregò gli occhi Conan era accosciato davanti ai Cactus intento a cogliere i loro frutti e a toglierne destramente le spine non mi hai svegliata mi hai lasciata dormire tutta la notte eri stanca e il sedere deve esserti diventato piatto dopo quella lunga cavalcata voi pirati non siete abituati a montare a cavallo e tu? io ero un kozako prima di fare il pirata e i kozaki vivono in sella riesco a socchiudere gli occhi come una pantera che attende l'arrivo del cervo le mie orecchie seguitano a stare in guardia anche se gli occhi dormono e il mastodontico barbaro sembrava veramente riposato come se avesse dormito tutta la notte su un letto d'oro dopo avergli levato le spine e la buccia porse alla ragazza un frutto spesso e succoso di Cactus ora pulisciti i denti con questo frutto gli uomini del deserto ci si sfamano e ci si dissetano una volta ero capo degli Zuagir nomadi del deserto che vivono assalendo le carovane c'è qualcosa che non sei mai stato gli domandò la ragazza al tempo stesso ironica e affascinata non sono mai stato re di un regno iboriano però ho sognato di esserlo potrebbe anche capitarmi un giorno perché no Valeria scosse la testa davanti a tanta convinzione e affondò i denti nel frutto scoprì che non era sgradevole al palato e pieno di succo fresco e dissetante dopo aver finito di mangiare Conan si pulì le mani con la sabbia si alzò si passò una mano nella bruna criniera e si allacciò il cinturone della spada e disse bene possiamo andare se gli abitanti di quella città intendono tagliarci la gola è meglio che lo facciano subito prima che arrivi il caldo il suo umorismo nero era involontario ma Valeria riflette che poteva essere profetico si allacciò anche lei la spada e si alzò le paure della notte erano passate i draghi che ruggivano nella foresta lontana erano come un brutto sogno raggiunse il cimero con passo spavaldo qualunque pericolo le attendesse i loro nemici sarebbero stati pur sempre uomini e la Valeria della confraternita rossa non aveva mai incontrato un uomo che le avesse ispirato paura Conan la guardò arrivare e mettersi al suo fianco col suo passo molleggiato cammini più come un montanaro che come un marinaio devi essere di Aquilonia il sole di Darfar non ha mai bruciato la tua pelle bianca molte principesse te la invidierebbero si sono di Aquilonia i complimenti del suo compagno non le davano più fastidio anzi la sua palese ammirazione le faceva piacere qualunque altro uomo che avesse vegliato sul suo riposo l'avrebbe mandata su tutte le furie aveva sempre respinto con fierezza qualsiasi maschio che pretendesse di proteggerla perché donna ma le infondeva invece un segreto piacere il fatto che fosse stato quell'uomo a vegliare il suo sonno e non aveva neanche approfittato della sua paura e della conseguente debolezza dopo tutto riflette il suo compagno non era un uomo comune il sole intanto si alzò sulla città conferendo alle torri di un sinistro colore cremisi nera è stata la notte contro la luna rosso sangue e l'aurora contro il sole non mi piace questa città tuttavia proseguirono e mentre si avviavano Conan osservò che da nord non c'erano strade per la città non è passata nessuna mandria sulla pianura da questa parte della città nessun aratro tocca questa terra da anni forse da secoli guarda però una volta questa pianura era coltivata Valeria vide gli antichi canali di irrigazione che lui le indicava ricoperti dalla vegetazione e dai cactus aggrottò le sopracciglia perplessa mentre posava lo sguardo sulla pianura che si stendeva ad ogni parte della città e arrivava fino al limitare della foresta che la circondava come un grande anello buio la vista non arrivava oltre quell'anello Valeria guardò con inquietudi nella città neanche uno scintillare d'elmio di lance sopra i bastioni né uno squillo di tromba né una voce dalle torri sulle mura e sui minareti regnava un silenzio assoluto come quello della foresta il sole era alto nell'emisfero orientale quando arrivarono sotto la grande porta del muro nord all'ombra di una scala altissima i rinforzi di ferro del mastodontico portale di bronzo erano macchiati di ruggine sui cardini davanti alla soglia e intorno alle ante borchiate brillavano le ragnatele non viene aperta da anni una città morta ecco perché i fossati erano ricoperti dalle erbacce e la pianura incolta ma chi l'ha costruita chi ci viveva dove sono andati perché l'hanno abbandonata e chi può dirlo forse è stata costruita da un clan stigiano in esilio ma l'architettura non sembra stigiana forse gli abitanti sono stati portati via dai nemici oppure li ha sterminati una pestilenza in tal caso i loro tesori potrebbero essere ancora dentro ricoperti di polvere e ragnatele Conan guardò perplesso il grosso portale ma poi vi appoggiò le spalle massicce e fece forza con tutta la potenza dei muscoli dei polpacci e delle cosce gemendo sui cardini arrugginiti la porta si aprì pesantemente verso l'interno e Conan si raddrizzò e sfoderò la spada Valeria che era dietro a lui emise un gemito di sorpresa davanti a loro infatti non c'era una strada aperta o un cortile come si aspettavano la porta dava direttamente in una grande sala che si allungava a non finire scomparendo in lontananza aveva dimensioni colossali e il pavimento fatto di una strana pietra rossa tagliata a lastre squadrate sembrava rifulgere come fuoco i muri erano di un materiale verde rilucente se quella non è Giada io sono uno scemita non in simile quantità ho depredato abbastanza carovane di chita per sapere cosa sto dicendo quella è Giada la volta del soffitto era di lapislazzulo e ogni tanto apparivano come decorazione delle grosse pietre verdi che avevano una luce ipnotica pietre di fuoco verde è così che le chiama la gente di Punt si pensa che siano gli occhi pietrificati di certi sarpenti preistorici che gli antichi chiamavano sarpenti d'oro al buio brillano come gli occhi di un gatto di notte questa sala viene rischiarata dalla loro luce ma deve essere un'illuminazione diabolicamente infernale diamo un'occhiata intorno forse possiamo trovare un deposito segreto di gioielli chiudi la porta non vorrei essere inseguita da qualche drago dentro questa sala Conan rise e replicò io non credo che i draghi lasciano mai la foresta tuttavia obbedì e richiusa il catenaccio che all'interno era saltato mi è parso di sentire una specie di schianto quando l'ho sfondato quel catenaccio è stato rotto di recente la ruggine l'ha quasi mangiato se la popolazione è scappata di corsa perché è rimasta chiusa dall'interno di sicuro saranno usciti da un'altra porta si chiese quanti secoli fossero passati dall'ultima volta che la luce del giorno era filtrata in quell'enorme sala dalla porta aperta il sole tuttavia riusciva a farsi strada e individuarono subito da dove sulla volta del soffitto infatti c'erano dei lucernari quadrati di un materiale traslucido simile al cristallo nelle zone buie che li separavano le gemme verdi scintillavano come gli occhi di un gatto adirato sotto i loro piedi il pavimento levigato assumeva riflessi cangianti come i colori delle fiamme sembrava di camminare sul pavimento dell'inferno con le stelle malevole che ammiccavano dall'alto tre gallerie balaustrate correvano lungo entrambi i lati della sala l'una sull'altra è un edificio a quattro piani e questa sala sale fino al tetto è lunga come una strada mi sembra di vedere una porta giù in fondo valeria scrollò le spalle dalla pelle bianca i tuoi occhi sono migliori dei miei allora anche se i pirati mi attribuiscono una vista da falco entrarono a caso in una porta aperta e attraversarono tutta una serie di stanze vuote pavimentate come la sala di ingresso e con le pareti della medesima giada verde oppure di marmo o di calcedonio e adornate di fregi di bronzo d'oro ed argento sui soffitti erano incastonate le gemme di fuoco verde e la luce da loro emanata era diabolica e misteriosa come Conan aveva predetto i due intrusi si muovevano come spettri sotto quel luccichio stregato alcune stanze mancavano di tale illuminazione e le loro soglie si aprivano nere come la bocca di un pozzo Valeria e Conan le evitarono preferendo passare per quelle illuminate agli angoli pendevano le ragnatele ma sul pavimento la polvere non si era accumulata e nemmeno sui tavoli sulle sedie di marmo di giado di granito che occupavano le sale qua e là si vedevano tappeti di seta del Chitan famosi per essere praticamente indistruttibili non trovarono da nessuna parte né porte né finestre che dessero sulla strada ogni nuova porta si apriva su un'altra stanza o su un corridoio perché non cerchiamo di uscire in strada questo palazzo qualunque cosa sia deve essere grande come il serraio del re di Turan non credo siano morti per un'epidemia altrimenti avremmo trovato degli scheletri forse è stata infestata dagli spiriti e la popolazione è fuggita forse al diavoli forse non lo sapremo mai guarda questi fregi ritraggono degli uomini di che razza sono Conan li osservò attentamente e scosse la testa non ho mai visto un popolo come questo ma hanno tratti orientali del Vendia forse o di Cosala sei stato re di Cosala no ma sono stato capo degli afghuli gente guerriera che vive sui monti imeliani sopra i confini del Vendia questi qui somigliano ai cosolani ma perché i cosolani avrebbero costruito una città così lontano le figure ritraevano uomini e donne snelli dalla carnagione verde oliva e dai tratti del viso esotici e finemente cesellati indossavano vesti leggere e portavano molti ornamenti preziosi e delicati ed erano ritratti principalmente in scene di danza d'amore o festeggiamenti orientali questo è chiaro ma di dove esattamente non lo so avranno condotto una vita disgustosamente pacifica altrimenti avremmo visto qualche scena di guerra o di lotta saliamo su per quelle scale nella sala in cui si trovavano c'era una scala d'avorio a chiocciola superate tre rampe di gradini arrivarono in un'ampia camera al quarto piano che sembrava l'ultimo dai lucernari filtrava un po' di luce e le gemme incastonate nel soffitto emanavano palli di scintillii sbirciando dalle porte videro una serie di stanze tutte illuminate allo stesso modo tranne una la porta di quest'ultima conduceva una galleria balaustrata affacciata su un corridoio molto più piccolo di quello che avevano appena esplorato al piano inferiore al diavolo quelli che hanno abbandonato questa città devono aver portato via tutti i loro tesori sono stufa di girare alla cieca in queste stanze vuote tutte le stanze superiori sembrano illuminate vorrei trovare una finestra che dia sulla città diamo un'occhiata oltre quella porta laggiù dalla tu io resto qui seduta a riposare i piedi Conan scomparve oltre alla porta opposta quella che si apriva sulla galleria e Valeria si appoggiò al muro con le mani dietro la testa e allungò gli stivali quelle stanze e quei saloni silenziosi con quelle gemme verdi scintillanti e quei pavimenti rosso fiamma cominciavano a deprimerla si augurava di trovare una via d'uscita da quel labirinto e ritrovarsi nuovamente in strada si chiese oziosamente quali piedi furtivi avessero mai attraversato quei pavimenti fiammeggianti nei secoli passati quante crudeltà e quanti misteri avessero illuminato le gemme ammagliatrici di quei soffitti fu un leggero scalpiccio a riscuoterla dai suoi pensieri si alzò in piedi con la spada in pugno senza sapere bene che cosa l'avesse disturbata Conan non era tornato e sapeva che non era stato lui a provocare quel suono il suono era venuto da un punto oltre la porta che si affacciava sulla galleria senza far rumore Valeria avanzò silenziosamente con i suoi morbidi stivali e si infilò dentro e scivolò su una balconata e guardò giù tra i pesanti pilastri della balaustra nel salone si aggirava un uomo la vista di un essere umano in quella città che sembrava deserta fu un vero trauma rannicchiandosi sulle ginocchia dietro la balaustrata con tutti i nervi tesi Valeria spiò la misteriosa figura l'uomo non somigliava minimamente alle figure effigiate nei fregi superava di poco l'altezza media e aveva la pelle molto scura pur non essendo di razza nera era completamente nudo fatta eccezione per una fascia di seta che gli copriva soltanto in parte le natiche muscolose e una cintura di pelle alta a un palmo legata intorno alla vita i suoi lunghi capelli neri cadevano in ciò che lisce sopra le spalle conferendogli l'aspetto di un selvaggio era molto magro e sulle braccia e sulle gambe nodose si vedevano i fasci muscolari senza quel rivestimento di grasso che crea una piacevole simmetria di linee era talmente asciutto da riuscire quasi ripugnante eppure non era tanto il suo aspetto fisico quanto il suo atteggiamento a colpire la donna che lo osservava camminava furtivo quasi ingobbito spostando continuamente la testa a destra e a sinistra stringeva una lama punta larga nella mano destra e questa gli tremava visibilmente dall'emozione era spaventato in preda al terrore quando girò la testa Valeria vide il luccichio dei suoi occhi selvaggi sotto le ciocche dei capelli neri l'uomo invece non la vide attraversò la sala in punta di piedi e scomparve per una porta aperta un attimo dopo Valeria udì un grido soffocato e poi fu nuovamente silenzio bruciando di curiosità percorse tutta la galleria finché non scopò una porta che si trovava sopra quella varcata dall'uomo questa conduceva in un'altra galleria più piccola della prima la quale girava intorno un'ampia sala tale sala si trovava al terzo piano e il soffitto non era alto come quello del salone al pian terreno era illuminata esclusivamente dalle pietre di fuoco e la loro malefica luce verde lasciava in ombra le zone sotto la balconata Valeria spalancò gli occhi l'uomo che aveva visto si trovava ancora nella sala era sdraiato a faccia in giù su un tappeto rosso scuro al centro della stanza il corpo era inerte e le braccia aperte accanto aveva la sua spada ricurva Valeria si chiese perché giacesse lì sopra così immobile ma poi guardò meglio il tappeto questo sotto intorno a lui aveva un colore leggermente diverso un rosso più scuro e più acceso con un leggero brivido si abbassò di più dietro la balaustra e scrutò intensamente le ombre sotto la balconata ma non rivelavano alcun segreto improvvisamente apparve sulla lugubra scena un'altra figura era un uomo simile al primo e arrivava da una porta opposta a quella che dava sul salone alla vista dell'altro disteso sul pavimento sgranò gli occhi e disse qualcosa che somigliava a kick mech il compagno non si mosse l'uomo attraversò rapidamente la stanza si chinò e girò l'altro per le spalle non appena vide la testa ciondolare all'indietro rivelando la gola recisa da parte a parte gli sfuggì un grido soffocato lasciò ricadere il cadavere sul tappeto sporco di sangue e si rialzò in piedi tremando come una foglia al vento la sua faccia era una maschera di terrore pronto a fuggire si bloccò invece all'improvviso immobilizzandosi come una statua e scrutando nella sala con gli occhi sgranati nelle ombre proiettate dalla balconata cominciò a luccicare una luce diabolica sempre più forte una luce che non era emessa dalle pietre di fuoco Valeria sentì rizzarlesi i capelli mentre guardava perché appena visibile tra quei raggi pulsanti fluttuava un teschio umano ed era da questo teschio umano ma al tempo stesso mostruosamente deforme che sembrava emanare la luce sepolcrale stava sospeso come una testa staccata uscita dalla notte e dalle ombre diventando sempre più nitido nei contorni umano eppure non umano nel senso in cui intendeva Valeria l'uomo era rimasto immobile viva rappresentazione di un orrore paralizzante e fissava l'apparizione con uno sguardo vitreo l'oggetto si staccò dal muro seguito da un'ombra grottesca lentamente l'ombra divenne visibile era una figura somigliante a un uomo dal torso e dalle membra bianche che luccicavano come osse sbiancate dal sole sopra le spalle il teschio levigato sorrideva dalle orbite vuote circondato da quel chiarore lattiginoso e l'uomo che gli stava davanti pareva incapace di staccargli gli occhi di dosso rimaneva immobile la spada nella mano inerte con l'espressione di chi è sotto l'effetto dell'ipnosi valeria si rese conto che non era solo la paura a immobilizzarlo quella luce pulsante lo aveva privato in qualche modo della capacità di agire e di pensare perfino lei che si trovava al sicuro al di sopra della scena avvertiva l'influenza sottile di un'emanazione sconosciuta che minacciava il suo equilibrio mentale alla fine l'orrore si mosse verso la sua vittima e l'uomo abbandonò la spada e cadde in ginocchio coprendosi gli occhi con le mani attese inerte il colpo della lama che adesso era apparsa in mano allo spettro pronto ad abbattersi sopra di lui come la morte che trionfa sull'umanità valeria agì seguendo il primo impulso della sua natura indomita e con un movimento da tigre salto sopra la baluastra e si lasciò cadere sul pavimento alle spalle dell'apparizione questa si girò non appena i suoi morbidi stivali atterrarono sul pavimento ma valeria era già pronta a colpire con la spada e provò una fiera esultanza quando sentì la lama entrare entro la carne non illusoria e fra ossa mortali lo spettro urlò e cadde a terra ferito alla spalla al petto e alla spina dorsale e mentre cadeva il teschio luminoso rotolò per terra rivelando una massa di capelli neri e una faccia scura contorta dagli spasimi della morte sotto quell'orrido travestimento c'era un essere umano un uomo simile a quello supinamente girocchiato sul pavimento quest'ultimo al suono del colpo e dell'urlo alzò la testa e guardò completamente sbalordito la donna dalla pelle bianca eretta sopra il cadavere con la spada gocciolante di sangue ancora in mano si rimise in piedi barcollando balbettando come se quella vista gli avesse elevato la ragione valeria fu sorpresa di scoprire che lo capiva farfugliava in lingua stigiana anche se parlava un dialetto a lei sconosciuto tu chi sei di dove vieni che cosa fai a xoxoxoxo poi senza aspettare la sua risposta si affrettò a continuare ma sei un'amica dea o diavolessa che tu sia non fa differenza tu hai ucciso il teschio lucente non c'era che un uomo dietro in fin dei conti noi credevamo che fosse un demone evocato dalle catacombe da loro ascolta si interruppe improvvisamente e si irrigidì tendendo al massimo le orecchie la ragazza invece non sentiva nulla dobbiamo affrettarci loro si trovano a ovest della grande sala potrebbero essere intorno a noi forse in questo stesso momento stanno per assalirci l'afferrò per il polso con una stretta da forsennato dalla quale valeria fece fatica a liberarsi a chi ti riferisci quando dici loro gli chiese l'uomo la guardò per un attimo senza comprendere come se la sua ignoranza in proposito fosse inconcepibile loro ma la gente di xodank il clan dell'uomo che tu hai ucciso quelli che abitano alla porta orientale vuoi dire che questa città è abitata certo certo andiamocene adesso svelta dobbiamo tornare a te cogli e dov'è? è il quartiere della porta occidentale l'aveva afferrata di nuovo per un polso e cercava di trascinarla verso la porta dalla quale era arrivato dalla fronte gli colavano grosse gocce di sudore e gli occhi ardevano di terrore aspetta un attimo tieni le mani a posto altrimenti ti spacco la testa in due che cos'è questa storia? tu chi sei? dove vorresti portarmi? l'uomo cercò di controllarsi poi lanciando occhiata a destra e a sinistra cominciò a parlare talmente in fretta da mangiarsi le parole mi chiamo te cogli sono di te cogli io e questo uomo che giace a terra con la gola tagliata siamo entrati nelle sale del silenzio per tendere un agguato a certi xotalanchi ma poi siamo stati separati e io sono tornato qui e l'ho trovato sgozzato è stato il teschio lucente lo so e avrebbe ucciso così anche me se tu non mi avessi salvato ma forse non era solo potrebbero arrivare degli altri da xotalanchi perfino gli dèi non ridiscono davanti alla sorte di coloro che vengono catturati a quel pensiero tremò di terrore e la sua faccia scura divenne cinerea valeria lo guardò perplessa intuiva che c'era qualcosa di vero in tutta quella storia ma le risultava ancora incomprensibile si girò a guardare il teschio che seguitava e mettere luce sul pavimento e stava per toccarlo con la punta dello stivale quando te cotl la bloccò con un urlo non toccarlo non guardarlo nemmeno mi si nascondono la follia e la morte solo i maghi di xotalanch conoscono il suo segreto l'hanno trovato nelle catacombe vicino alle ossa dei re sanguinari che hanno regnato xutol nei secoli bui del passato guardarlo agghiaccia il sangue paralizza la mente di tutti coloro che non ne conoscono il mistero toccarlo toccarlo provoca pazzia e morte valeria parve dubbiosa non aveva un aspetto rassicurante quell'uomo magro e nodoso con quei ricciuli a serpentello nei suoi occhi oltre al terrore brillava una strana luce che lei non aveva mai visto nello sguardo di una persona sana di mente eppure sembrava sincero nelle sue proteste andiamo tu sei straniera come sei arrivata qui io non lo so ma se fossi un demonio o una dea venuta in aiuto di tecutli sapresti già tutto quello che mi hai chiesto forse vieni dalla grande foresta da dove arrivano i nostri antenati però sei nostra amica altrimenti non avresti ucciso il mio nemico e ora andiamo ce ne svelta prima che gli xotalanchi ci trovino e ci uccidano allontanando lo sguardo dalla sua faccia repellente e infiammata valeria lo posò sul teschio nefasto che seguitava e mettere luce sul pavimento vicino al morto sembrava il teschio di un sogno innegabilmente umano ma al tempo stesso deforme e distorto da vivo il proprietario doveva aver avuto un aspetto alieno e orrendo da vivo quel teschio sembrava vivo le mascelle si aprirono e sbatterono la sua luce divenne più forte più vivida e anche l'impressione da incubo crebbe era un sogno tutta la vita era un sogno fu solo la voce concitata di tecotl a richiamare valeria dai cupi abissi in cui stava cadendo non guardare il teschio non guardarlo valeria si riscosse come un leone che agita la criniera le si schiarì la vista tecotl stava dicendo da vivo ospitava l'orrendo cervello di un re dei maghi e prende ancora la vita in un fuoco magico dagli spazi esterni con un'imprecazione valeria sobbalzò simile a una pantera e il teschio venne ridotto in mille pezzi fiammeggianti dalla sua indomita spada in una parte della stanza o nel vuoto o nei profondi recessi della sua coscienza una voce non umana gridò di collera e di dolore tecotl la stava tirando per un braccio farfugliando l'hai rotto lo hai distrutto neppure la magia nera di xothalang potrebbe ricostruirlo andiamo ce ne svelta di corsa ma non posso venire con te ho lasciato un amico vicino a l'espressione degli occhi di lui che fissavano terrificati qualcosa alle sue spalle la fece tacere immediatamente si voltò appena in tempo mentre quattro uomini arrivavano di corsa da porte diverse convergendo verso la coppia che si trovava al centro della stanza somigliavano agli altri due gli stessi muscoli nodosi sulle gambe scheletriche i medesimi capelli corvini scarmigliati lo stesso sguardo folle negli occhi erano armati e vestiti come tecotl ma sul petto recavano dipinto un teschio bianco non ci furono gridi di sfida e ne urli di battaglia come tigri assetate di sangue gli uomini di xotalank si avventarono alle gole dei loro nemici tecotl li affrontò con la furia della disperazione si abbassò per evitare una stoccata afferrò corpo a corpo l'avversario e lo fece rotolare con lui sul pavimento lottando in micidiale silenzio gli altri tre assalirono valeria con gli occhi rossi come quelli di cani impazziti lei uccise il primo che arrivò tiro prima che questo avesse il tempo di colpire spaccandogli il cranio con la spada lunga e diritta non appena l'uomo sollevò la sua poi mentre parava un fendente si spostò di lato e compì un affondo aveva una luce negli occhi e un sorriso spietato sulle labbra era tornata ad essere valeria della confraternita rossa e il sibilo dell'acciaio era come un canto di nozze per le sue orecchie la sua spada superò una lama che cercava di parare la stoccata e si infilò di punta nel corpetto di pelle dell'avversario l'uomo aprì la bocca e cadde in ginocchio ma il suo compagno che era più alto in feroci silenzio partì all'attacco martellandola come una pioggia di colpi talmente furiosi che valeria non ebbe il tempo di contrattaccare allora indietreggiò con freddezza parando i fendenti e aspettando l'occasione di arrivare a segno l'avversario non poteva continuare a colpire con quella foga ancora per molto il suo braccio ci sarebbe stancato gli sarebbe mancata la forza avrebbe cominciato a esitare e allora la lama di valeria sarebbe penetrata facilmente nel suo cuore un'occhiata di lato le mostrò Tecotl inginocchiato sul petto dell'avversario che cercava di liberare il polso dalla stretta dell'altro per riuscire a pugnalarlo la fronte dell'uomo che le stava innanzi colava sudore e i suoi occhi parevano due tizoni ardenti poteva colpire come voleva ma non riusciva a raggiungerla e né a superare la sua guardia aveva il fiato mozzo e i suoi colpi cominciavano ad abbattersi alla cieca Valeria indietreggiò per infilarlo con la spada e venne bloccata alle cosce di una stretta di ferro aveva scordato l'uomo ferito sul pavimento piegato sulle ginocchia questo la teneva ferma bloccandole le gambe con tutte e due le braccia e il suo compagno gongolando di trionfo cominciò a farsi strada verso di lei attaccandola da sinistra Valeria sferrava colpi selvaggi ma in vano poteva liberarsi dalla morsa con uno scatto all'indietro della spada ma in quello stesso istante la lama ricurva del guerriero alto le avrebbe fracassato il cranio e il ferito cominciò a morderle la coscia nuda con i denti come una bestia selvatica tendendo il braccio sinistro Valeria lo ferrò per i lunghi capelli costringendolo a reclinare la testa mostrandole i denti bianchi e gli occhi roteanti lo xotalanco alto lanciò un urlo selvaggio e balzò in avanti colpendo con tutta la forza che aveva nel braccio Valeria parò bravamente il colpo ma il piatto della lama le ferì la testa di dove cominciò a colarle il sangue davanti agli occhi la spada nemica si sollevò di nuovo accompagnata da un grido roco e bestiale di trionfo da parte dell'uomo e poi apparve un colosso alle spalle dello xotalanco e l'acciaio guizzò con un lampo azzurro l'urlo del guerriero cessò ad un tratto e questi cadde giù come un bue sotto la scura del macellaio con le cervella che schizzavano fuori dal cranio spaccato fino alla gola conan in un impeto di ferocia si voltò verso lo xotalanco al quale teneva ancora stretti lunghi capelli nella mano sinistra cane uscito dall'inferno la sua spada si bilò e tagliò l'aria descrivendo un arco nel mezzo e il corpo decapitato crollò sul pavimento schizzando sangue valeria scagliò la testa mozza dall'altra parte della stanza che diavolo succede qui dentro conan calpestò il corpo dell'uomo che aveva ucciso con la spada ancora in pugno guardandosi intorno esterrefatto tecotl si stava rialzando dal cadavere contorto dell'ultimo xotalanco scuotendo le gocce rosse del pugnale un taglio profondo gli faceva sanguinare la coscia guardò conan con due occhi sgranati che significa tutto ciò tornò a chiedere conan non ancora riavutosi dalla sorpresa di aver trovato valeria impegnato in una lotta selvaggia con quegli uomini usciti come fantasmi dalla città che aveva creduto deserta e disabitata tornato da un'infruttuosa esplorazione delle stanze superiori e non trovando più valeria dove l'aveva lasciata aveva seguito i rumori della lotta che risuonavano nelle sue orecchie incredule cinque cani morti cinque macellati cinque chiodi rossi per la colonna nera gli dèi del sangue siano ringraziati esclamò tecolt esultando di gioia sollevò al cielo le mani tremanti poi con un'espressione diabolica sul viso sputò sui corpi e calpestò le loro facce danzando di macabra gioia i suoi nuovi alleati lo guardarono sbalorditi e conan nella lingua di aquilonia chiese chi è questo matto dice di chiamarsi tecolt dai suoi farfugliamenti ho capito che il suo popolo vive a un capo di questa folle città e questi qui dalla parte opposta forse faremmo meglio ad andare con lui sembra ben disposto e mi sembra di capire che l'altro clan non lo è tecolt aveva smesso di ballare e si era messo nuovamente in ascolto con la testa piegata da una parte come un cane la gioia del trionfo che gli appariva sul viso ripugnante smorzata dalla paura adesso andiamocene abbiamo fatto abbastanza cinque cani morti il mio popolo vi accoglierà a braccia aperte vi onorerà venite però tecolt è lontana gli xotalanchi potrebbero arrivare da un momento all'altro in numero troppo grande perfino per le vostre spade facci strada allora mugugnò Conan tecolt salì subito su una scala che conduceva alla galleria e fece cenno di seguirlo cosa che i due fecero muovendosi rapidamente per stargli dietro dopo aver raggiunto la galleria si infilò in una porta che si apriva a ovest e superò in fretta camera dopo camera ognuna delle quali era illuminata dai lucernari o dalle pietre di fuoco che razza di posto è questo? lo sa Krom ma io ho già visto la sua razza vivono sulle rive del lago Zuad vicino alla frontiera di Kush sono una specie di stigiani bastardi incrociatisi con un'altra razza che è arrivata dall'oriente alcuni secoli fa nella stigia li chiamano Tlazitlani ma sono pronto a scommettere che non sono stati loro a costruire questa città le paure di Tlazitl non sembravano diminuite neanche quando si furono allontanati dalla stanza dei cadaveri seguitava a spostare la testa a destra e a sinistra in caccia di rumori di un eventuale inseguimento e scrutava intensamente da ogni soglia che varcavano Valeri a suo malgrado aveva i brividi non temeva all'uomo ma lo strano pavimento che aveva sotto i piedi le pietre malefiche che luccicavano dall'alto il terrore mostrato dalla loro guida e le davano tutto questo un'ansia inspiegabile la sensazione di qualche pericolo in agguato potrebbero trovarsi tra noi e Tecurli dobbiamo stare in guardia perché non ce ne andiamo da questo posto diabolico e non usciamo in strada non ci sono strade a Xucogl niente piazze niente cortili l'intera città è costruita come un gigantesco palazzo sotto un unico grande tetto la cosa che si avvicina di più a una strada è la sala grande che attraversa la città dalla porta nord alla porta sud le sole porte che si aprono sul mondo esterno sono quelle della città dalle quali non entra anima viva da 50 anni ormai da quanto tempo tu vivi qui? io sono nato al castello di Tecurli 35 anni fa non ho mai messo piede fuori dalla città in nome degli dèi camminiamo in silenzio questi corridoi potrebbero essere pieni di devoni in agguato Olbeck vi dirà tutto quanto quando arriveremo a Tecurli così proseguirono in silenzio con le pietre di fuoco verde che luccicavano dall'alto e il pavimento fiammeggiante che metteva riflessi sotto i loro piedi e Valeria aveva la sensazione che stessero percorrendo l'inferno guidati da un folletto dai capelli lunghi e dalla faccia scura tuttavia fu Conan a farli fermare mentre stavano attraversando una stanza particolarmente grande le sue orecchie avvezze alla vita selvaggia avevano un udito perfino più fine di quello di Tecotl sebbene quest'ultimo le avesse agguzzate durante un'intera vita di battaglie combattute in quei corridoi silenziosi credi che qualcuno dei vostri nemici ci stia aspettando per tenderci un agguato si nascondono in queste sale a tutte le ore così come facciamo noi i corridoi e le camere che si trovano tra Tecotl e Xodalanc sono territorio conteso e non appartengono a nessuno le chiamiamo le sale del silenzio perché me lo chiedi? perché lì dentro ci sta aspettando qualcuno sento il rumore dell'acciaio contro la pietra Tecotl venne scosso dal nuovo tremito di paura e strinse forte i denti per non farli battere forse sono i tuoi amici meglio non fidarsi rispose e si mosse freneticamente cambiò corridoio ed entrò in una porta sulla sinistra che conduceva in una stanza dalla quale partiva una scala d'avorio che conduceva giù nelle tenebre questa scala porta in un corridoio che non è illuminato potrebbero essersi nascosti anche lì può essere tutto un trucco per prenderci in trappola ma dobbiamo confidare lo stesso nel fatto che ci abbiano teso l'imboscata di sopra e adesso svelti leggeri come fantasmi scesero la scala e giunsero all'imbocco di un corridoio nero come la notte rimasero un attimo fermi ad ascoltare e poi ripresero a camminare mentre avanzavano Valeria si aspettava da un momento all'altro un colpo di spada alla schiena se non fosse stato per le dita di ferro di Conan che le stringevano il braccio non avrebbe riconosciuto i suoi compagni per giunta questi due facevano meno rumore di un gatto il buio era assoluto con la mano protesa ogni tanto toccava il muro e altre volte una porta il corridoio le pareva interminabile improvvisamente vennero messi in guardia da un rumore alle loro spalle Valeria ebbe un nuovo fremito perché riconobbe il lento aprirsi di una porta nel corridoio erano giunti altri uomini mentre quel pensiero le attraversava la mente inciampò su qualcosa che sembrava un teschio umano questo rotolò sul pavimento con un rumore terrificante correte gridò Tecotl con una nota di isterismo nella voce lanciandosi per il corridoio come un fantasma in fuga Valeria sentì di nuovo la mano di Conan che la tirava e la trascinava per il corridoio dietro la loro guida Conan nel buio non poteva vedere meglio di lei ma possedeva una specie di istinto che gli consentiva di non sbagliare senza il suo sostegno e la sua guida sarebbe caduta per terra oppure avrebbe battuto contro il muro volarono per il corridoio mentre il rapido calpistio di piedi si avvicinava sempre di più poi all'improvviso Tecotl ansimò ecco la scala seguitemi svelti svelti la sua mano uscì dal buio e afferrò Valeria per il polso mentre la ragazza inciampava sugli scalini si sentì quasi trascinare semi sollevare su per la scala tortuosa mentre Conan la lasciava e si voltava verso le scale con l'udito e l'istinto che gli dicevano che i nemici gli erano alle spalle e non erano affatto rumori di piedi umani sulle scale stava salendo qualcosa qualcosa che frusciava e strisciava ghiacciando l'aria Conan colpì verso il basso con la sua grande spada e sentì che la lama penetrava in qualcosa che poteva essere carne spaccando anche il gradino sottostante qualcosa gli sfiorò il piede con un tocco gelido come il ghiaccio e poi nel buio sottostante si udirono colpi e tonfi tremendi e un uomo urlò di dolore un attimo dopo Conan aveva già risalito di corsa alla scala ed era entrato in una porta aperta su in cima Valeria e Tecotl erano già entrati e Tecotl chiuse violentemente la porta con il catenaccio il primo che Conan vedeva da quando avevano varcato la porta della città poi l'uomo si voltò e attraversò di corsa la stanza ben illuminata dove erano arrivati e mentre varcavano la porta di fronte Conan si girò e vide che quella da cui erano entrati cigolava e tremava sotto la violenta pressione che veniva esercitata dall'altra parte anche se Tecotl non rallentò l'andatura e non scordò la cautela adesso sembrava più sicuro di sé aveva l'aria di chi è arrivato nel proprio territorio e sa di poter chiamare in aiuto i suoi amici Conan però rinnovò il suo terrore chiedendogli contro che cosa ho combattuto sopra le scale erano gli uomini di Xotalank ve l'avevo detto che i saloni prulicano di nemici quello non era un uomo era una cosa strisciante e gelida come il ghiaccio credo di averla spaccata in due è caduta addosso agli uomini che ci inseguivano e deve averne ucciso uno tra gli spasimi di dolore la testa di Tecotl sussultò e la sua faccia divenne di nuovo cinerea affrettò nervosamente il passo era la creatura strisciante un mostro che loro hanno tirato fuori dalle catacombe per aiutarli che cos'è noi non lo sappiamo ma abbiamo trovato alcuni dei nostri barbaramente uccisi in nome di Seth sbrigatevi se lo metteranno sulle nostre tracce ci seguirà fino alle porte stesse di Tecotli ne dubito gli ho assestato un bel colpo lì sulle scale correte svelti corsero in una serie di camere dalla luce verde attraversarono un grande salone e si fermarono davanti a una gigantesca porta di bronzo Tecotl disse questa è Tecotli 3 il popolo della faida Tecotli picchiò con un pugno sulla porta di bronzo e poi si voltò a controllare il corridoio sono molti gli uomini che hanno bussato questa porta credendo di essere in salvo perché non aprono? ci stanno osservando dall'occhio sono sconcertati dalla vostra presenza apri la porta e c'è là sono io Tecotli con degli amici venuti dal grande mondo oltre la foresta apriranno adesso assicurò Tecotli ai suoi alleati allora faranno bene a sbrigarsi sento che striscia qualcosa al di là della sala Tecotli divenne nuovamente cinereo e prese la porta a pugni urlando aprite stupidi aprite la creatura strisciante c'è alle calcagna mentre batteva i pugni gridando la grossa porta di bronzo si aprì senza far rumore rivelando una pesante catena che sbarrava l'entrata dall'altra parte della quale spuntavano punte di lance e facce arcigne che li scrutarono per un istante poi la catena venne tolta e Tecotli afferrò per le braccia i suoi amici e li trascinò freneticamente dentro un'occhiata alle spalle mentre la porta si richiudeva mostrò a Conan il lungo corridoio in fondo al quale stava apparendo un nofidio che si contorceva lentamente spasmodicamente entrando da una porta con la testa macchiata di sangue che ondeggiava orrendamente poi la chiusura della catena lo nascosa allo sguardo dentro la camera quadrata in cui adesso si trovavano la porta venne sbarrata con pesanti catenacci e la catena venne rimessa al suo posto quella porta era stata fatta per resistere a un assedio c'erano quattro uomini di guardia tutti con i capelli sciolti e la pelle scura come tecotl con le lancia in mano e le spade al fianco nel muro vicino alla porta c'era un gioco complicato di specchi che Conan immaginò fosse l'occhio di cui aveva parlato tecotl fatto in modo da poter osservare dall'interno attraverso un piccolo pannello di cristallo senza essere visti dall'esterno le quattro sentinelle fissarono gli stranieri con somma meraviglia ma non fecero loro nessuna domanda né tecotl dette loro alcuna informazione adesso si muoveva con sicurezza come se la paura lo avesse abbandonato non appena avarcata la porta venite esortò i nuovi amici ma Conan lanciò un'occhiata alla porta e quei tizi che ci stavano inseguendo non credi che tenteranno di sfondare la porta tecotl scosse la testa sanno perfettamente che non possono sfondare la porta dell'aquila torneranno scornati a Xotalank con il loro demonio strisciante e adesso venite vi condurrò dai signori di tecutli una delle quattro guardie aprì la porta di fronte a quella dalla quale erano entrati introducendoli in un corridoio che come quasi tutti gli ambienti di quel piano era illuminato dai lucernari e dai grappoli di pietra di fuoco a differenza però dagli altri ambienti che avevano attraversato questo corridoio mostrava segni di vita arazzi di velluto adornavano infatti le pareti lucide di Giada sul pavimento rosso-cremesi erano distesi sontuosi tappeti e i sedili le panche e i divani erano sommersi da cuscini di seta nel corridoio terminava davanti una porta decorata che non era piantonata dalle guardie senza troppe cerimonie Tecotl spalancò la porta e fece entrare i suoi amici in un'ampia stanza dove una trentina di uomini e di donne dalla pelle scura erano sdraiati su divanetti di raso i presenti non appena videro i due stranieri saltarono in piedi con esclamazioni piene di stupore gli uomini tranne uno somigliavano a Tecotl e le donne avevano tutte la pelle scura e un curioso taglio d'occhi che conferiva loro un fascino oscuro e misterioso portavano sandali corpetti d'oro e gonne di seta frusciante sorrette da cinture intarsiate di gemme e le loro capigliature nere tagliate all'altezza delle spalle nude erano trattenute da cerchietti d'argento su un seggio d'avorio eretto su un podio di giada sedevano un uomo e una donna notevolmente diversi dagli altri lui era un gigante con un torso enorme e due spalle taurine a differenza degli altri portava la barba una barba nera dai riflessi azzurri che gli arrivava quasi al grosso cinturone indossava una tunica di seta rosso porpora che cambiava colore ad ogni movimento e una larga manica tirata su fino al gomito rivelava un braccio massiccio rigonfio di muscoli la benda che teneva in ordine i suoi riccioli corvini luccicava di pietre preziose la donna che gli sedeva accanto balzò in piedi con un'esclamazione stupita non appena entrarono gli stranieri e i suoi occhi dopo aver esaminato Conan si posarono con sguardo ardente su Valeria era alta e snella di gran lunga la più bella donna della sala era vestita più succintamente delle altre poiché invece della gonna portava solo una larga fascia di stoffa purpurea che era fissata al centro della cittura e le arrivava sotto le ginocchia una seconda fascia pendeva dalla parte posteriore della cintura e completava il costume che indossava ormai con spregiudicata non curanza il corpetto d'oro che le fasciava il seno e il cerchietto intorno alla fronte erano anch'essi adorni di gemme tra tutta quella gente dalla pelle scura i suoi occhi erano i soli i cui non brillasse la luce della pazzia non disse una parola dopo la prima esclamazione rimase in piedi rigida a pugni chiusi fissando Valeria l'uomo sul trono d'avorio non si era alzato principe Olmec ti porto degli alleati provenienti dal mondo al di là della foresta nella sala di Texcoti il teschio lucente ha ucciso Kikmek il mio compagno il teschio lucente ci fu un improvviso mormorio di paura tra la gente di Tecutli sì poi sono arrivato io e ho trovato Kikmek con la gola tagliata prima che riuscissi a scappare il teschio lucente mi ha assalito e quando l'ho guardato il mio sangue si è mutato in ghiaccio e il mio midollo si è sciolto non potevo muovermi non potevo far altro che attendere il colpo ma poi è arrivata questa donna dalla pelle bianca che lo ha colpito con la sua spada e pensate era soltanto un cane di Xotalank con la faccia pitturata di bianco che si era messo sulla testa il teschio vivente dell'antico mago adesso il teschio è stato frantumato in mille pezzi e il cane che lo portava è morto una fiera esultanza vibrò in quell'ultima affermazione e venne immediatamente accompagnata da esclamazioni selvagge da parte degli astanti aspettate tutti c'è di più mentre io parlavo con la donna ci sono saltati addosso quattro Xotalank io ne ho ucciso uno la ferita che ho riportato alla coscia testimonia quanto sia stata disperata la mia lotta la donna ne ha uccisi due e mentre venivamo messi alle strette è arrivato questo uomo che si è gettato nella mischia e ha spaccato in due il cranio del quarto sì cinque chiodi rossi dovranno essere piantati nella colonna della vendetta indicò la colonna d'ebano che si ergeva dietro al trono la sua superficie liscia era scalfita da centinaia di punti rossi le teste scarlatte di grossi chiodi di rame conficcati nel legno nero cinque chiodi rossi per cinque vite di Xotalank esultò Tekotl e una gioia spaventosa apparve sulle facce degli astanti quasi con gioia disumana chi sono queste persone domandò Olmec con una voce bassa e profonda come il muglio di un toro nessuna Xotalank parlava a voce alta era come se avessero assorbito nell'anima il silenzio di quelle sale vuote e di quelle stanze deserte io sono Conan un cimmero e questa donna è Valeria della confraternita rossa una corsara aquilonese siamo disertori di un esercito che si trova sulla frontiera di Darfar molto a nord e stiamo cercando di raggiungere la costa la donna sul trono parlò a voce alta incespicando nel parlare per la foga non raggiungerete mai la costa non si può fuggire da Xutol passerete il resto della vostra vita in questa città che significa ci stai dicendo che siamo prigionieri non voleva dire questo noi siamo vostri amici non vi tratterremo mai contro la vostra volontà ma temo che altre circostanze rendano per voi impossibile lasciare Xutol i suoi occhi si posarono su Valeria poi si abbassarono rapidamente questa donna alla mia destra è Tascela è una principessa di Tecutli e ora che si portino cibo e rinfreschi per i nostri ospiti avranno senz'altro fame e saranno affaticati dopo i loro lunghi viaggi il re indicò un tavolo d'avorio e dopo essersi scambiati uno sguardo i due avventurieri si misero seduti il cimaro era sospettoso i suoi fieri occhi azzurri frugarono la sala mentre la mano non si staccava dalla spada ma non rifiutava mai un invito a bere e a mangiare seguito a osservare Tascela ma la principessa non aveva occhi che per la sua compagna dalla pelle bianca Tecotl che si era fasciato la coscia con una benda di seta si mise seduto al tavolo per provvedere ai desideri dei suoi amici considerando evidentemente un privilegio servirli esaminava il cibo che veniva portato loro in vassoi e piatti d'argento e assaggiava ogni pietanza prima di porgerla agli ospiti mentre mangiavano Olmec restò in silenzio sul suo seggio d'avorio osservandoli sotto le folte sopracciglia nere Tascela gli sedeva accanto con il mento tra le mani e i gomiti posati sulle ginocchia i suoi enigmatici occhi scuri che ardevano di una luce misteriosa non lasciavano neanche per un attimo il corpo snello di Valeria alle sue spalle una ragazza dalla cupa bellezza agitava lentamente un ventaglio di piume di struzzo il cibo era costituito di frutti esotici di una varietà sconosciuta ai due avventurieri ma molto gradevole e il vino aveva un colore rosso chiaro e un sapore molto forte venite da molto lontano ho letto i libri dei nostri padri Aquilonia si trova oltre le terre degli stigiani e degli scemiti dopo Argos e Zingara e la Cimmeria è ancora più lontana abbiamo entrambi un passo veloce come abbiate fatto a superare la foresta per me è un mistero nei tempi antichi perfino mille uomini armati avevano difficoltà a sfuggire ai suoi pericoli abbiamo incontrato un mostro da baraccone che era grosso come un mastodonte ma dopo averlo ucciso non abbiamo avuto altri problemi la coppa del vino scivolò nelle mani di Tecotl e si schiantò sul pavimento la sua faccia scura divenne cinerea Olmec si alzò immediatamente in piedi completamente sbalordito e tutti gli altri emisero un gemito di terrore qualcuno cadde in ginocchio come se non gli si reggessero più le gambe solo Tascela pareva non essersi accorta della coppa caduta e Conan si guardò intorno meravigliato che succede? perché state tutti a bocca aperta? tu hai ucciso il dio drago? dio? io ho ucciso un drago perché no? voleva divorarci tutti e due ma i draghi sono immortali si uccidono l'un l'altro ma nessun uomo ha mai ucciso un drago i mille guerrieri mandati dai nostri antenati ad aprire la strada per Xucotl non riuscirono a vincerli le loro spade si spezzarono come fuscelli contro le loro scaglie se ai vostri antenati fosse venuto in mente di immergere le loro lance nel succo velenoso delle mele di darcheta e li avessero colpiti agli occhi oppure in bocca avrebbero visto che i draghi non sono più immortali di un manzo la carcassa si trova a limitare degli alberi all'inizio della foresta se non mi credete andate pure a guardare Olmec scosse la testa non per l'incredulità ma per lo stupore è stato a causa dei draghi che i nostri antenati si sono rifugiati a Xucotl non usavano attraversare la pianura ed entrare nella foresta vennero catturati e divorati a centinaia da quei mostri prima di riuscire a raggiungere la città allora non sono stati i vostri antenati a costruire questa città la città già esisteva quando essi arrivarono in questa terra da quanto tempo non lo sapevano nemmeno i suoi degenerati abitanti il vostro popolo veniva dal lago Zuad si più di mezzo secolo fa una tributla zitlana si ribellò al re della stigia e venendo sconfitta in battaglia fuggì a sud per intere settimane vagò per le praterie il deserto e le montagne e alla fine giunse nella grande foresta erano all'incirca mille guerrieri che con loro avevano donne e bambini nella foresta vennero assaliti e sbranati dai draghi così fuggirono terrorizzati e alla fine giunsero alla pianura e videro la città di Xucol gli abitanti della città chiusero le porte e gli scagliarono frecce dalle mura e i tlazitlani si ritrovarono intrappolati nella pianura con la foresta che li circondava come un grande muro perché avventurarsi nei boschi sarebbe stata ormai una follia quella notte giunse segretamente al loro accampamento uno schiavo venuto dalla città uno del loro stesso sangue il quale da giovane con un gruppo di esploratori si era avventurato nella foresta i draghi avevano divorato tutti gli altri soldati mentre lui era stato portato in città e fatto schiavo si chiamava Tolkemec al pronunciare questo nome si accese una scintilla nei suoi occhi neri qualcuno maledicendo quel nome sputò per terra egli promise che avrebbe aperto le porte della città ai guerrieri e in cambio chiese soltanto che i prigionieri venissero consegnati a lui all'alba aprì le porte i guerrieri sciamarono dentro e le sale di Xutol si ricoprirono di sangue infatti vi abitava un piccolo gruppo di cento persone gli ultimi superstiti di un'antica razza potente Tolkemec disse che erano arrivati dall'est molto tempo addietro dall'antica Cosala quando gli antenati di quelli che abitavano adesso a Cosala avevano scacciato gli abitanti originari di quella terra avevano vagato a ovest e alla fine avevano trovato questa pianura circondata dalla foresta e abitati all'epoca da una tribù di neri e c'ero schiava questa tribù e cominciarono a edificare una città dalle montagne dell'oriente portarono già da marmo e lapislazzuli e oro argento e rame pranchi di elefanti gli fornirono l'avorio e quando la città fu finita uccisero tutti i loro schiavi neri e i loro maghi pronunciarono degli incantesimi terribili per proteggere la città dopodiché con la necromanzia ricrearono i draghi che una volta vivevano in questa terra perduta dei quali avevano ritrovato le ossa nella foresta a quelle ossa restituirono carne e vita e i bestioni percorsero di nuovo la terra così come la percorrevano agli arbori dei tempi ma i maghi compirono un incantesimo che li teneva nella foresta impedendo loro di arrivare alla pianura così la gente di Xutol visse per molti secoli nella città coltivando la fertile pianura finché i saggi impararono a far crescere la frutta entro le mura frutta che non ha radici nel suolo e che trae nutrimento dall'aria così lasciarono seccare i canali di irrigazione e si abbandonarono sempre di più alla lussuria e al vizio fino alla decadenza erano una razza morente quando i nostri antenati arrivarono dalla foresta e irruppero nella pianura i loro maghi erano morti e gli altri avevano dimenticato l'antica arte non erano in grado di combattere né con la magia né con la spada allora i nostri padri uccisero tutti gli abitanti di Xutol a eccezione di un centinaio di persone che vennero messe nelle mani di Tolkemec il loro antico schiavo e per molti giorni e molte notti le sale cheggiarono delle urla sotto l'agonia della tortura e così i Tlazitlani si stabilirono qui in cerca di un po' di pace sotto la guida dei fratelli Tecutli e Xotalanc e di Tolkemec Tolkemec prese in moglie una fanciulla della tribù e poiché aveva aperto loro le porte e conosceva molte arti degli Xutoclani divise il comando della tribù con i due fratelli che avevano cappeggiato la ribellione e la fuga per qualche anno vissero in pace dentro la città pensando soltanto a bere a mangiare e a fare l'amore e ad allevare i figli non c'era bisogno di coltivare la pianura perché Tolkemec insegnò loro come coltivare i frutti che si nutrono d'aria inoltre l'uccisione degli Xutolani aveva rotto l'incantesimo che imprigionava i draghi della foresta e questi venivano di notte a ululare sotto le porte della città la pianura si ricopriva continuamente di sangue e fu allora che si interruppe poi ripresa a parlare ma Conan e Valeria intuirono che aveva omesso qualche cosa che riteneva imprudente rivelare ai due stranieri per cinque anni vissero in pace poi Xotalank prese in moglie una donna che sia Tekutli che il vecchio Tolkemec desideravano nella sua pazzia Tekutli la rapì al marito e lei lo seguì piuttosto volentieri Tolkemec per ripicca verso Xotalank aiutò Tekutli Xotalank chiese che gli venisse restituita la donna e il consiglio della tribù decise che la decisione spettava alla donna e questa scelse di rimanere con Tekutli accecato dall'ira Xotalank cercò di riprendersela con la forza e i sostenitori dei due fratelli arrivarono alle armi nella sala grande seguì un periodo molto triste venne versato sangue da entrambe le parti la disputa divenne una faida e la faida guerra aperta dalla mischia emersero tre fazioni quella di Tekutli quella di Xotalank e quella di Tolkemec come era già successo in tempi di pace questi si divisero la città Tekutli viveva nel quartiere occidentale Xotalank in quello orientale e Tolkemec con la sua famiglia alla porta meridionale rabbia gelosia e risentimento provocarono spargimenti di sangue violenze e uccisioni una volta sguainata la spada non c'era più ritorno perché il sangue chiamava sangue e la vendetta chiamava vendetta Tekutli combatteva contro Xotalank e Tolkemec aiutava una volta l'una e una volta l'altro tradendo entrambe le fazioni per i propri fini Tekutli e i suoi si ritirarono nel quartiere della porta occidentale dove noi adesso ci troviamo la città di Xutolo ha una pianta ovale Tekutli che prende il nome dal suo principe si trova nella parte ovest dell'ovale la gente bloccò tutte le porte che collegavano il quartiere al resto della città a eccezione di una per piano che poteva essere difesa facilmente scesero alle cisterne sotto la città e costruirono un muro che separava la zona occidentale dalle catacombe dove giacciono i corpi degli antichi Xutolani e Tlazitlani uccisi nella faida vissero come se si trovassero dentro un castello assediato facendo scorribande sortite contro i loro nemici i seguaci di Xotalank fecero lo stesso fortificando la zona orientale della città e anche Tolkemec fortificò il quartiere della porta orientale la parte centrale della città rimase deserta e disabitata le sue sale e i suoi corridoi divennero vuoti e divennero territorio di battaglia e luogo di insidie Tolkemec faceva la guerra a entrambi i clan era un diavolo dall'aspetto umano perfino più spietato di Xotalank conosceva molti segreti della città che non rivelò mai ad altri nelle cripte delle catacombe depredò i morti dai loro foschi segreti i segreti degli antichi re e degli antichi maghi che i degenerati Xutolani uccisi dai nostri avi avevano dimenticato ma tutte quelle conoscenze magiche non le aiutarono la notte in cui Tecutli assalì il suo castello e massacrò tutta la sua gente torturammo Tolkemec per giorni e giorni la sua voce divenne carezzevolmente odiosa e nei suoi occhi apparve uno sguardo lontano nel ripensare a quella scena che evidentemente gli arrecava un piacere profondo sì lo tenemmo in vita finché bramò la morte come se fosse una sposa alla fine lo portammo via dalla sala delle torture e lo gettammo in una segreta per farlo mangiare dai topi quando fosse morto invece riuscì misteriosamente a scappare dalla prigione e a trascinarsi fino alle catacombe lì senza dubbio morì perché l'unica via di uscita dalle catacombe che passano sotto Tecutli è soltanto Tecutli e nessuno lo vide uscire da lì il suo scheletro non venne mai ritrovato e chi è superstizioso tra la nostra gente è pronto a giurare che il suo spirito infesta le cripte ancora oggi ululando tra le ossa dei morti 12 anni fa massacrammo gli abitanti di Tolkemec ma la faida tra i Tecutli e gli Xotalanchi è continuata e così durerà finché l'ultimo uomo e l'ultima donna non saranno morti è stato 50 anni fa che Tecutli rubò la moglie a Xotalanch la faida continua da mezzo secolo io nacqui a quel tempo tutti quelli che vedi in questa sala a eccezione di Tascela sono nati allora e ci aspettiamo di morire combattendo siamo una razza in via d'estinzione proprio come accadde a quegli Xotalani che vennero sterminati dai nostri antenati quelli che restano dei Tecutli sono tutti qui davanti a voi siamo 40 in tutto comprese le guardie che sorvegliano le quattro porte non so quanti Xotalanchi siano rimasti ma dubito che siano molti più di noi da 15 anni non ci nascono figli e non abbiamo visto bambini nemmeno tra gli Xotalanchi stiamo morendo ma prima di morire stermineremo tutti gli Xotalanchi che gli Dei ci consentiranno di uccidere poi con quegli strani occhi ardenti Olmec parlò a lungo della faida combattuta in quelle camere e in quei saloni bui e silenziosi al chiarore delle pietre di fuoco verde sui pavimenti fiammeggianti da riflessi diabolici e macchiati dal rosso ancora più cupo delle vene recise in quell'interminabile massacro era perita un'intera generazione Xotalanch era morto molto tempo prima ucciso in un fiero combattimento lungo una scala d'avorio Tecutli era stato scorticato vivo dagli inferociti Xotalanchi che lo avevano catturato senza la minima emozione Olmec descrisse le spaventose battaglie combattute nei cupi corridoi le imboscate sopra le scale tortuose i massacri con un luccichio negli occhi neri sempre più rosso e più lontano narrò di uomini e donne che urlavano sotto torture talmente spietate che perfino il barbaro cimmaro ne ebbe disgusto non c'era da stupirsi se Tecutli aveva il terrore di essere catturato eppure aveva continuato a uccidere se poteva spinto da un odio più forte delle sue paure Olmec seguitò a parlare di cose oscure e misteriose di magia nera e di stregoneria evocate dalle profondità delle catacombe di creature diaboliche richiamate dalle tenebre per farsene alleate in questo gli Xotalanchi erano avvantaggiati perché erano nelle catacombe orientali che giacevano le ossa dei più grandi maghi degli antichi Xutolani con i loro immemorabili segreti Valeria ascoltava perversamente affascinata la faida era diventata una terribile forza elementare che spingeva inesorabilmente la popolazione di Xutol verso la morte e anche l'estinzione permeava tutta la loro vita c'erano nati e si aspettavano di morirci non lasciavano mai il loro castello se non per nascondersi nelle sale del silenzio che si trovavano in mezzo ai due fortini rivali per uccidere oppure farsi uccidere a volte i razziatori tornavano con prigionieri urlanti o con macabre testimonianze di vittoria a volte non tornavano affatto o fatti a pezzi pezzi che venivano gettati davanti alle porte di bronzo era un'esistenza irreale da incubo segregati dal resto del mondo come conigli chiusi nella medesima trappola a massacrarsi reciprocamente per anni appiattendosi e strisciando nei corridoi bui per mutilare torturare e assassinare i rivali mentre Olmec parlava Valeria si sentiva addosso lo sguardo penetrante di Tascela la principessa pareva non udire racconti di Olmec la sua espressione non rifletteva il selvaggio furore o l'esultanza diabolica che si alternavano sulle facce degli altri tecutli la faida che per quelli del suo clan era una vera ossessione sembrava non avesse alcuna importanza per lei Valeria trovava la sua freddezza ancora più repellente della scoperta ferocia di Olmec e non possiamo mai lasciare la città da 50 anni non esce nessuno eccetto quelli finì col dire Olmec anche se non esistesse il pericolo dei draghi noi che siamo nati e cresciuti nella città non oseremmo mai lasciarla non abbiamo mai messo piede fuori dalle mura non siamo abituati al cielo aperto e al sole nudo no a Xucotl siamo nati e a Xucotl noi moriremo allora con il vostro permesso noi preferiamo sfidare i draghi questa faida non è affar nostro se ci indicherai la porta occidentale ce ne andremo per i fatti nostri Tascela strinse i pugni e fece per parlare ma Olmec la interruppe è quasi sera se andrete in giro per la foresta di notte cadrete certamente nelle grinfie dei draghi l'abbiamo già attraversata di notte e abbiamo dormito all'aperto senza incontrarli Tascela rise con allegria non oserete lasciare Xucotl Conan la fissò con un'avversione istintiva non stava guardando lui ma la donna che aveva di fronte io penso che oseranno invece ma ascoltate Conan e Valeria gli dei devono avervi mandati da noi per mettere la vittoria nelle mani dei tecutli voi siete guerrieri professionisti perché non combattete per noi possediamo molte ricchezze a Xucotl le pietre preziose abbondano come sassi alcune le portarono gli Xucotlani da Consala altri come le pietre di fuoco le trovarono sui monti orientali aiutateci a sterminare una volta per tutti gli Xucotlanchi e noi vi daremo tutte le pietre preziose che riuscirete a portare via e ci aiuterete a sgominare i draghi con degli uomini e delle frecce avvelenate basterebbero 30 uomini per eliminare tutti i draghi della foresta certo ma noi abbiamo scordato come si usa un arco in tutti questi anni di combattimento corpo a corpo ma certamente possiamo imparare di nuovo tu che dici? volle sapere Valeria rivolgendosi a Conan siamo tutti e due dei vagabondi squattrinati posso uccidere gli Xucotlanchi come ucciderei chiunque allora accettate? certo e adesso presumo che ci mostrerete le stanze dove potremo dormire in modo da essere freschi domani per dare inizio al massacro Olmec annui e a un suo cenno Tecotl e una donna guidarono i due avventurieri per un corridoio a cui dava accesso una porta alla sinistra del trono di Giada uno sguardo alle spalle mostrò a Valeria Olmec seduto sul seggio con il mento appoggiato sulla mano che li seguiva con lo sguardo nei suoi occhi ardeva una fiamma diabolica Tascela si appoggiò al trono sussurrando qualcosa alla ragazza dalla faccia cupa Yasala la quale si accostò alla principessa per ascoltare quello che le mormorava la padrona il corridoio non era largo come gran parte di quelli che avevano attraversato però era lungo dopo un po' la donna si fermò aprì una porta e si fece da parte per far entrare Valeria aspetta un attimo e io dove dormo Tecotl gli indicò una camera dall'altra parte del corridoio una porta più giù Conan esitava e stava sul punto di fare obiezione quando Valeria gli sorrise sdegnosa e gli chiuse la porta in faccia il cimero borbottò qualcosa contro le donne in generale e proseguì sul corridoio dietro Tecotl una volta entrato nella camera decorata destinatagli alzò gli occhi verso i lucernari alcuni erano abbastanza larghi da consentire il passaggio di un uomo magro ipotizzando sempre di riuscire a rompere quel vetro perché gli xotaranchi non salgono sui tetti e non rompono quei lucernari non si possono rompere inoltre sarebbe difficile arrampicarsi sui tetti sono quasi tutte guglie e cupole gli fornì di sua iniziativa altre informazioni sul castello dei Tecutli come il resto della città comprendeva quattro piani o file di stanze con torri che spuntavano dal tetto ogni piano aveva un nome anzi la popolazione di Xucotl aveva un nome per ogni stanza sala e scala della città esattamente come gli abitanti di città più normali danno un nome alle strade e ai quartieri a Tecutli i piani avevano i seguenti nomi quello dell'aquila quello della scimmia quello della tigre e quello del serpente in quest'ordine preciso il piano dell'aquila di fatti era il quarto dimmi Tecutl chi è Tascela è forse la moglie di Olmec Tecutl tremò e si guardò intorno con circospezione prima di rispondere lei è Tascela era la moglie di Xotalanc la donna che Tecutli rapì dando inizio alla faida che stai dicendo quella donna è bella e giovane vorresti dirmi che era sua moglie 50 anni fa si lo giuro era già donna quando i Tlazitlani partirono dal lago Zuad il motivo per cui Xotalanc e suo fratello si ribellarono e fuggirono era che il re della stigia la voleva come concubina ella è una strega e conosce il segreto dell'eterna giovinezza e qual è? Tecutl tremò di nuovo di paura io non non chiedermelo non oso dirlo è troppo spaventoso anche per Xucotl quindi portandosi un dito alle labbra scappò dalla stanza 4 profumo di loto nero Valeria slacciò il cinturone della spada e lo posò insieme all'arma sul letto dove si disponeva a coricarsi notando che tutte le porte avevano il catenaccio domandò dove conducessero la donna che l'accompagnava disse che le stanze portavano in altre stanze adiacenti e una in particolare si apriva su un corridoio che arrivava fino a una scala per scendere alle catacombe ma Valeria non doveva temere perché lì dentro non poteva succedere nulla e chi ha detto che ho paura? volevo soltanto sapere in che specie di porto ho ancorato la nave no non voglio che tu dormi ai piedi nel mio letto non sono abituata ad essere servita non da una donna almeno hai il permesso di andartene una volta sola nella camera la pirata tirò il catenaccio a tutte le porte si sfilò gli stivali e si sdraiò languidamente sul divano pensò a Conan che si trovava nella medesima situazione dall'altra parte del corridoio la sua vanità femminile glielo faceva immaginare furioso di collera per l'umiliazione mentre si buttava sul letto solitario e preparandosi a dormire sorrise maliziosamente fuori era scesa la notte nelle sale di Xutol le pietre di fuoco verde scintillavano come occhi di gatto preistorici in qualche punto tra le torri il vento notturno gemeva senza posa nei corridoi bui cominciavano ad appostarsi loschi figuri appiattiti come ombre Valeria si svegliò di soprassalto alla luce cupa color smeraldo vide una figura in ombra che si chinava su di lei per un istante l'apparizione le parve parte del sogno che stava facendo le era sembrato di essere sdraiata sul letto della stanza in cui si trovava mentre sopra di lei pulsava un fiore nero gigantesco talmente immenso da nascondere il soffitto il suo profumo esotico le entrava dentro inducendole un piacevole senso di languore che non era semplice sonno stava per essere sommersa da ondate di beatitudine e di piacere quando qualcosa le sfiorò il viso i suoi sensi narcotizzati erano talmente suscettibili che quel tocco leggero fu come un impatto brutale che la fece tornare con violenza alla coscienza e allora davanti a lei al posto del fiore gigante vide una donna dalla pelle scura non appena capì si infuriò di collera e passò all'azione la donna si voltò velocemente ma prima che potesse correre via Valeri era già in piedi e l'aveva afferrata per il braccio per qualche secondo quella lottò come un gatto selvatico poi quando si sentì schiacciata dalla forza superiore della sua catturatrice si arrese la pirata fece voltare la donna per vederla in faccia afferrandole il mento con la mano libera per costringerla a guardarla negli occhi era la cupa yasala la serva di tascela che diavolo facevi china sopra di me che cosa ha in mano la donna non rispose e cercò di nascondere l'oggetto Valeria le torse il braccio e quello cadde sul pavimento un grosso fiore esotico nero su uno stelo verde giada grande come la testa di una donna ma minuscolo rispetto all'immagine gigantesca che aveva visto in sogno il loto nero il fiore il cui profumo induce un sonno profondo volevi drogarmi se non mi avessi sfiorato accidentalmente il viso con i petali avresti perché lo facevi a che gioco stai giocando yasala restava in ostinato silenzio e con un'imprecazione Valeria la fece voltare l'obbligò a mettersi in ginocchio e le bloccò un braccio contro la schiena dimmelo altrimenti ti spezzo il braccio yasala si contorse dal dolore mentre Valeria le tirava violentemente il braccio contro le scapole ma la sua unica risposta fu un violento diniego col capo disgraziata Valeria la buttò sul pavimento poi la osservò con due occhi fiammeggianti la paura e il ricordo degli occhi brucianti di tascela risvegliavano in lei l'istinto felino di autoconservazione quel popolo era in decadenza ci si poteva aspettare qualunque genere di perversità da quella gente Valeria tuttavia intuiva che c'era qualcosa dietro il sipario un terrore misterioso più folle della semplice degenerazione provò paura e repulsione verso quella città diabolica quella gente non era né sana di mente né normale anzi cominciava anche a dubitare che fosse umana avevano tutti uno sguardo folle tutti eccettuati gli occhi enigmatici e crudeli di tascela che celavano segreti e misteri più abissali della pazzia Valeria sollevò la testa e si mise in ascolto i corridoi di Xutol erano silenziosi come se fosse davvero una città morta le pietre verdi rischiaravano la stanza con il loro bagliore da incubo e alla loro luce gli occhi della donna distesa sul pavimento emettevano un luccichio malvagio Valeria si sentì a salire dal panico e quell'ultimo vestigio di pietà che le rimaneva scomparve dal suo spirito fiero perché volevi drogarmi? si bilò afferrando la donna per i capelli e costringendola a sollevare la faccia per poterla guardare in quegli occhi cupi dalle lunghe ciglia ti ha mandato a tascela? ancora nessuna risposta Valeria valeria imprecò con violenza e detta alla donna uno schiaffo su una guancia e poi uno sull'altra i colpi eccheggiarono nella camera ma Yasala non evise nemmeno un grido perché non gridi? dammi che qualcuno ti senta di chi hai paura? di tascela? di Olmec? di Conan? Yasala non rispose stava rannicchiata sul pavimento e fissava la sua catturatrice con due occhi malevoli come quelli di un basilisco Valeria si girò e strappò i cordoni dalle tende vicine l'urida sgualdrina ho intenzione di spogliarti completamente nuda e di legarti a quell'etto e poi di frustarti finché non mi direi che cosa facevi qui e chi ti ha mandata Yasala non fece la minima protesta ne oppose resistenza mentre Valeria metteva in pratica la prima parte della minaccia con una furia che l'ostinazione della prigioniera non faceva altro che riattizzare poi per un po' non si sentì nessun rumore nella stanza oltre al sibilo e allo schiocco delle corde di seta sulla pelle nuda Yasala non poteva muovere né le mani né i piedi il suo corpo si torceva e sussultava sotto la sferza della castigatrice e la sua testa si spostava da una parte all'altra al ritmo delle frustate si mordeva il labbro inferiore con i denti e mentre la punizione continuava le uscì un rivoletto di sangue dalla bocca ma non è mise un solo lamento le corde di seta facevano poco rumore quando colpivano il corpo tremante della prigioniera si sentiva soltanto uno schiocco secco ma ogni corda lasciava una stria rossa sulla pelle scura di Yasala Valeria le infliggeva la punizione con tutta la forza del braccio allenata dalle battaglie con tutta la crudeltà acquisita in una vita in cui il dolore e il tormento erano all'ordine del giorno e con tutto il cinismo che soltanto una donna può mostrare verso un'altra donna Yasala soffriva di più sia fisicamente che mentalmente di quanto avrebbe sofferto sotto le frustrate di un uomo e questo era davvero folle fu questo cinismo femminile che alla fine domò Yasala le sfuggì un gemito dalle labbra e Valeria si fermò restando col braccio sollevato e mandò all'indietro una ciocca di capelli biondi allora ti sei decisa a parlare posso continuare anche per tutta la notte se è necessario la donna chiese pietà e disse che avrebbe detto tutto Valeria le tolse i legami ai polsi e alle caviglie e la fece mettere in piedi Yasala cadde sul letto appoggiandosi su un fianco nudo e sorreggendosi su un braccio perché il contatto della pelle martoriata con la stoffa la faceva torcere dal dolore tremava dalla testa ai piedi con le labbra secche implorò del vino indicando con una mano tremante una coppa d'oro posata sul tavolo d'avorio chiese da bere perché il dolore la rendeva debole e dopodiché avrebbe detto tutto Valeria prese la coppa e Yasala tese immediatamente il braccio afferrò il calice lo portò alle labbra e poi scaraventò il contenuto in faccia alla quiloniana Valeria indietreggiò scuotendo la testa e cercando di togliersi il liquido pungente dagli occhi in un velo di nebbia vide Yasala che si lanciava nella camera toglieva un catenaccio apriva la porta di rame e correva per il corridoio la pirata le fu dietro in un istante la spada in pugno e la vendetta in cuore ma Yasala era in vantaggio e correva con l'agilità di una donna che è stata appena frustrata fino al punto dell'isterismo girò un angolo a qualche metro da Valeria e quando la pirata arrivò trovò soltanto una sala deserta e una porta spalancata dall'altra parte del corridoio da questa proveniva un odore umido e polveroso e Valeria ebbe un brivido quello doveva essere il passaggio che portava alle catacombe Yasala si era rifugiata tra i morti Valeria avanzò fino alla porta e vide una fila di gradini di pietra che svanivano immediatamente nelle tenebre totali evidentemente era una scala per arrivare direttamente alle cisterne sotto la città senza passare per i piani inferiori ebbe un leggero brivido a pensare alle migliaia di corpi che giacevano nelle loro cripte di pietra avvolti nei loro sudari polverosi non aveva intenzione di scendere a tentoni per quella scala di pietra Yasala conosceva di sicuro ogni svolta e ogni gomito di quelle gallerie sotterranee Valeria stava tornando indietro scornata e furiosa quando nel buio si udì un urlo straziante sembrava venire da grande profondità ma le parole umane erano distinguibili e la voce apparteneva a una donna implorava aiuto in nome di Seth e poi lanciò un urlo la voce si spense e Valeria ebbe l'impressione di udire l'eco di una risata raccapricciante si sentì accapponare la pelle cosa era successo a Yasala in quelle oscure profondità era in dubbio che fosse stata lei a gridare ma in quale pericolo era caduta aveva trovato uno xotolanco nascosto laggiù Olmec gli aveva assicurato che le catacombe sotto Tecutli erano separate dal resto da un muro troppo resistente perché i nemici provassero a sfondarlo inoltre quella risata sembrava non avere niente di umano Valeria si affrettò ripercorrere il corridoio senza fermarsi a chiudere la porta aperta sulle scale raggiunta la sua camera chiuse la porta e tirò il catenaccio si infilò gli stivali e si allacciò la spada alla vita era decisa ad andare in camera di Conan per pregarlo sempre che fosse ancora vivo di unirsi a lei in un tentativo di fuga da quella città infernale ma nell'attimo stesso in cui arrivava davanti alla porta che dava sul corridoio un lungo grido di agonia risuonò nelle sale seguito da un calpestio di piedi che correvano e da un fragoroso cozzo di spade due guerrieri facevano la guardia al piano dell'aquila erano tranquilli anche se vigili un assalto alla grande porta di bronzo era sempre possibile ma erano anni che nessuna delle due fazioni tentava attacchi del genere gli stranieri sono potenti alleati Olmec muoverà contro il nemico domani secondo me parlava come un soldato in guerra nel mondo in miniatura di Xutol un pugno di avversari era un esercito e le sale deserte che separavano i due castelli erano il territorio sul quale veniva combattuta la guerra l'altro ci pensò sopra immagina che con il loro aiuto distruggiamo Xotlank che cosa succederà poi Xatmec beh pianteremo chiodi rossi per tutti i prigionieri li brucieremo li flagelleremo o li squarteremo sì ma dopo una volta che li avremo uccisi tutti non ci sembrerà strano non avere più nemici da combattere per tutta la vita ho odiato e combattuto gli Xotlanky quando la faida finirà che cosa resterà Xatmec alzò le spalle i suoi pensieri non erano mai andati oltre la distruzione dei loro nemici non potevano andare oltre improvvisamente tutti e due si irrigidirono sentendo un rumore fuori dalla porta alla porta Xatmec io guarderò dall'occhio Xatmec con la spada in pugno si appoggiò alla porta di bronzo spiando ogni rumore attraverso il metallo il suo compagno guardò nello specchio e sobbalzò c'era un gruppo di uomini ammucchiati contro la porta uomini dalle facce fosche scure con le spade fra i denti e le dita infilate dentro le orecchie uno che portava un copricapo piumato aveva alla bocca una corna musa e non appena i tecutri aprire labbra per lanciare l'allarme le canne dello strumento cominciarono a zufolare il grido gli morì in gola non appena il suono stridulo e misterioso penetrò attraverso il metallo e gli stordì le orecchie Xatmec rimase incollato alla porta come paralizzato in quella posizione aveva la faccia immobile e lo sguardo terrorizzato l'altra guardia che non si trovava direttamente vicino alla fonte del suono avvertiva lo stesso l'orrore di quello che stava succedendo la cupa minaccia che vibrava in quello zufolio diabolico sentiva come se quelle strane note gli staccassero il tessuto del cervello con ditini invisibili riempiendolo di emozioni sconosciute e impulsi folli con uno sforzo sovrumano però riuscì a vincere l'effetto dell'incantesimo e allora chiamò l'allarme con una voce che non gli sembrava la sua mentre urlava tuttavia la musica si trasformò in un suono acuto insopportabile lacerante come un coltello dentro le orecchie Xatmec gridò di dolore e come una fiamma spenta dal vento dal suo viso scomparve ogni barlume di intelligenza come un pazzo sciolse la catena spalancò la porta e corse dentro la sala con la spada alzata prima che il compagno potesse fermarlo venne infilzato da dodici spade e gli Xotalanchi passando sopra il suo corpo martoriato irruppero nel corridoio di guardia con un urlo selvaggio e sanguinario che cheggiò dappertutto riavutosi dallo shock l'altra guardia impugnò la lancia per affrontare i suoi avversari l'orrenda stregoneria di cui aveva appena assistito passava in secondo piano rispetto a quello che stava succedendo il nemico era dentro Tecutli e quando la punta della sua lancia trapassò un ventre dalla pelle scura egli non capì più niente perché una spada roteante gli spaccò il cranio mentre i guerrieri dagli occhi selvaggi accorrevano da tutte le sale dietro il posto di guardia furono le urla degli uomini e il fragore dell'acciaio a far saltare Conan dal letto ancora intontito dal sonno ma con la spada in mano in un attimo arrivò alla porta e la spalancò lanciandosi nel corridoio proprio mentre arrivava correndo Tecutli con uno sguardo folle Gli Xotalanchi sono dentro la porta Conan corse per il corridoio e nel frattempo Valeria usciva dalla sua camera Che diavolo succede? Tecutli dice che gli Xotalanchi sono qui e da questo fracasso direi che questo è vero con il Tecutli che li seguiva irrupero nella sala del trono e si trovarono davanti una scena di sangue di ferocia che travalicava anche il sogno più assurdo 20 uomini e donne con i capelli neri al vento e i teschi bianchi sul petto erano avvinghiati in una lotta mortale con la gente di Tecutli le donne di entrambe le fazioni combattevano come uomini e la sala e il corridoio esterni erano già cosparsi di cadaveri Olmec completamente nudo tranne le brache combatteva davanti al trono e non appena i due avventurieri entrarono da una camera interna arrivò correndo tascela con la spada in mano Xatmec e il suo compagno erano morti per cui non c'era nessuno che potesse dire ai Tecutli in che modo i nemici fossero riusciti a entrare nella cittadella e nessuno sapeva che cosa li avesse spinti a quell'azione temeraria ma le perdite subite dagli Xotalanchi erano maggiori e la loro posizione non era mai stata tanto disperata la mutilazione del loro scaglioso alleato la distruzione del teschio lucente e le notizie portate da un uomo morente che due misteriosi alleati bianchi si erano uniti ai loro nemici li avevano portati alla follia della disperazione e alla determinazione di voler morire seminando morte tra i loro antichi nemici i tecutli riavutosi dalla sorpresa iniziale dell'assalto che aveva disseminato la sala del trono di cadaveri adesso rispondevano ai colpi con la medesima furia disperata mentre le guardie appostate davanti alle porte dei piani inferiori accorrevano di corsa e si buttavano nella mischia pareva un combattimento all'ultimo sangue tra lupi che si azzannavano alla cieca ansimanti e spietati l'onda si spostava avanti e indietro dalla porta ai troni con le lame che roteavano e si piantavano nella carne con il sangue che schizzava e i piedi che calpestavano il pavimento cremisi dove si stavano formando pozze di sangue più rosse i tavoli d'avorio venivano rovesciati per terra le sedie spaccate in due le tende di velluto strappate era il culmine sanguinario di mezzo secolo di crudeltà e tutti lo avvertivano ma la conclusione era inevitabile i tecutli erano superiori di due a uno rispetto agli invasori ed erano eccitati dall'arrivo nella mischia dei loro alleati dalla pelle chiara questi colpivano con la furia devastante di un uragano su un boschetto d'alberelli neanche tre tra zitlani messi insieme erano un avversario degno di Conan e malgrado la sua mole il cimmero era più veloce di chiunque di loro si muoveva nella mischia con la sicurezza e la distruttività di un lupo grigio tra i cuccioli suoi alleati seminando cadaveri Valeria combatteva al suo fianco con le labbra sorridenti e gli occhi fiammeggianti era più forte di un uomo normale e molto più veloce e più spietata la spada pareva viva nella sua mano laddove Conan sgominava l'avversario con la forza bruta e la potenza dei colpi spezzando lance spaccando crani e squarciando petti Valeria ricorreva un'incredibile scaltrezza nel maneggiare la spada che sconcertava e confondeva l'antagonista prima ancora di ucciderlo più volte un guerriero che aveva sollevato la spada si ritrovò alla gola alla punta della lama di lei che gli recideva la giugolare senza lasciargli il tempo di colpire Conan il più alto in campo colpiva a destra e a sinistra mentre Valeria si muoveva come un fantasma sfuggente spostandosi in continuazione affondando e colpendo mentre cambiava posizione le spade la mancavano e gli aggressori colpivano l'aria e morivano con il cuore trafitto o la gola squarciata udendo la sua risata beffarda negli orecchi sesso e condizioni non avevano importanza per i combattenti le cinque donne exotalanche erano state sgozzate prima che Conan e Valeria entrassero nella mischia e quando un uomo o una donna finiva sotto i piedi di qualcuno c'era sempre un coltello pronto a recidere la sua gola in difesa oppure un sandalo pronto a schiacciargli il cranio la lotta si spostava a ondate da muro a muro da porta a porta riversandosi nelle camere adiacenti e alla fine soltanto i tecuti e i loro alleati dalla pelle bianca rimasero ancora in piedi nella grande sala del trono i superstiti si fissarono ammutoliti l'un l'altro come sopravvissuti al giorno del giudizio o alla fine del mondo a gambe piantate con le spade gocciolanti ancora in pugno e rivoli di sangue che scorrevano giù per le braccia si guardarono al di sopra dei corpi martoriati di amici e nemici non gli era rimasto più fiato per gridare ma dalle loro labbra salì un urlo bestiale e ululante non era un grido umano di trionfo era l'ululato di un branco di lupi idrofobi che si aggirava tra i corpi delle vittime conan afferrò valeria per un braccio e la fece girare valeria hai una ferita al polpaccio valeria si guardò le gambe rendendosi conto per la prima volta che le doleva il muscolo un uomo morente sul pavimento in un ultimo sforzo le aveva piantato il pugnale nel polpaccio e tu sembri un macellaio rise lei lui scosse le mani e da questa cadde una pioggia rossa non è sangue mio sì ho qualche graffio qui e là ma niente di serio quel polpaccio invece dovrebbe essere bendato Olmec venne avanti tra i cadaveri che ingombravano il pavimento sembrava uno spettro con quelle spalle nude massicce ricoperte di sangue e la barba nera bagnata di macchie cremisi i suoi occhi erano rossi come il riflesso delle fiamme sull'acqua nera abbiamo vinto la faida è finita i cani xotalanchi sono morti ah se potessi avere con me un prigioniero da scuoiare vivo ma è bello lo stesso guardare le loro facce da mummia 20 cani morti 20 chiodi rossi per la colonna nera faresti meglio pensare ai tuoi feriti Olmec ragazza vieni qui voglio vedere quella gamba aspetta un attimo come facciamo a sapere che sono tutti morti questi qui potrebbero aver tentato un assalto di loro iniziativa non avrebbero diviso il clan per un'incursione come questa scommetto la testa che li abbiamo uccisi tutti erano meno di quel che immaginavo e dovevano essere disperati ma come sono entrati a tecutli tascela venne avanti asciugandosi la spada sulla coscia nuda mentre nell'altra mano teneva un oggetto che aveva preso al cadavere del capo degli xotalanchi quello con il cappello piumato le pive della follia un guerriero mi ha detto che xatmec ha aperto la porta agli xotalanchi ed è stato ucciso quando questi hanno fatto irruzione nel corridoio di guardia questo guerriero è arrivato dalla sala interna appena in tempo per vedere che cosa accadeva e per sentire le ultime note di una strana musica che gli ha ghiacciato l'anima tolkemec parlava spesso di queste pive che gli xotalanchi giuravano di aver nascosto nelle catacombe insieme alle ossa dell'antico mago che vi faceva ricorso quando era in vita i cani di xotalanch devono essere riusciti a trovarli e hanno appreso il loro segreto io direi che dei volontari dovrebbero andare a xotalanch a vedere se c'è rimasto qualcuno ancora vivo io sono disposto a farlo se c'è qualcuno che mi farà da guida olmec che guardò i superstiti erano rimasti soltanto in venti e tra questi alcuni erano ancora terra e gemevano per le ferite tascela era l'unica tra i tecutli a essere completamente illesa nonostante avesse combattuto selvaggiamente come gli altri non aveva neanche un graffio gli vuole andare con Conan a xotalanch domandò loro olmec tecutl si fece avanti zoppicando la ferita alla coscia aveva ripreso a sanguinargli e aveva un altro squarcio alle costole gli vado io no tu no tecutl e neanche tu valeria tra un po' quella gamba diventerà rigida andrò io si offrì un guerriero che si stava fasciando l'avambraccio ferito molto bene janat tu vai col cimbero e anche tu topal olmec indicò un altro uomo che aveva ferite leggere prima però aiutate a sollevare i feriti gravi e metteteli su questi divani in modo che possiamo curarli l'ordine venne eseguito rapidamente mentre si chinavano per sollevare una donna che era stata tramortita da una mazza la barba di olmec solleticò l'orecchio di topal Conan ebbe l'impressione che il principe stesse bisbigliando qualcosa al guerriero ma non poteva averne la certezza un attimo dopo stava guidando i suoi compagni per il corridoio mentre varcava la porta Conan si voltò a guardare quel luogo di carneficina i morti che giacevano sul pavimento fiammeggiante con le membra scure macchiate di sangue rimaste contratte sotto lo sforzo dei muscoli con le facce scure tramutate in maschere d'odio gli occhi vitrei rivolti verso le pietre di fuoco verde che inondavano di luce cupa smeraldina e stregata quella scena macabra in mezzo ai morti i vivi si muovevano attoniti come in trance Conan udì Olmec chiamare una donna e ordinarle di fasciare la gamba di Valeria la pirata seguì la donna in una camera adiacente cominciando già a zoppicare leggermente con estrema circospezione i due tecutli guidarono Conan per il corridoio oltre la porta di bronzo e poi di sale in sala dove scintillava il fuoco verde non videro nessuno e non udirono il minimo suono quando attraversarono la sala grande che divideva la città nord dalla città sud la loro cautela venne accresciuta dalla consapevolezza di essere vicini al territorio nemico ma i corridoi e le sale parevano deserti e alla fine giunsero in un grande atrio buio e si fermarono davanti a una porta di bronzo simile alla porta dell'aquila di tecutli guardinghi provarono ad aprirla e quella si aprì silenziosamente alla loro pressione impauriti si affacciarono nelle stanze illuminate di verde che si trovavano al di là da 50 anni non entrava un tecutli in quelle sale se non come prigioniero trascinato verso un destino orrendo entrare a Xotalanc era il massimo dell'orrore che potesse capitare a un uomo del castello occidentale era un'eventualità che lo terrorizzava nei sogni fin da bambino per Yannath e Topal quella porta di bronzo era l'ingresso dell'inferno indietreggiarono con gli occhi colmi di un terrore irrazionale e Conan passò in mezzo a loro ed entrò in Xotalanc i due lo seguirono timidamente non appena misero piede sulla soglia si guardarono freneticamente intorno ma soltanto il loro respiro accelerato turbava quel silenzio si trovavano in un corpo di guardia quadrato simile a quello della porta dell'aquila di Tecutli e similmente un corridoio conduceva da questo a una grande sala che corrispondeva alla sala del trono di Olmec Conan guardò i tappeti i divani e i tendaggi che ornavano l'ambiente e si fermò ad ascoltare attentamente non udì rumori e le stanze sembravano vuote non riteneva probabile che ci fossero supersti a Xucotl proseguiamo mugugnò e si avviò per il corridoio non aveva fatto molti passi quando si rese conto che soltanto Yannath lo seguiva si girò come un fulmine e vide Topal in un atteggiamento di terrore con un braccio teso come per difendersi da un minaccioso pericolo e gli occhi ipnoticamente fissi su qualcosa che sporgeva da dietro un divano che diavolo poi anche Conan vide che cosa stava fissando Topal e sentì un leggero brivido tra le gigantesche scapole da dietro il divano usciva una testa mostruosa di rettile grossa come la testa di un coccodrillo con due zamperi curve che sporgevano dalla mascella inferiore ma l'animale aveva una rigidità innaturale e i suoi occhi terribili erano vitrei Conan andò a guardare dietro il divano si trattava di un grosso serpente stecchito come una mummia ma non aveva mai visto una bestia simile in tutti i suoi vagabondaggi emanava il fetore e il gelo delle viscere nere della terra e il colore della pelle cambiava continuamente a seconda dell'angolo dal quale lo si guardava una grossa fritta al collo indicava la causa della morte è la creatura strisciante è la cosa che ho colpito con la spada sulle scale dopo averci seguito fino alla porta dell'aquila si è trascinata qui ed è venuta a morire come facevano gli xotalanchi a controllare una bestia simile io non lo so i due tecutli rabbrividirono e scossero la testa l'avevano portata qua su dalle gallerie buie che corrono sotto le catacombe avevano scoperto segreti a noi ignoti bene adesso è morta e se ce ne fossero state altre le avrebbero portate con loro quando hanno attaccato tecutli ora proseguiamo i due gli si incollarono alle calcagna mentre percorreva a grandi passi il corridoio e spingeva la porta dagli intarsi d'argento che si trovava dall'altra parte se non troviamo nessuno su questo piano dovremo scendere a quelli inferiori se tacceremo xotalanch dalla cima del tetto alle catacombe se xotalanch è come tecutli tutte le stanze e corridoi saranno illuminati che diavolo erano arrivati alla grande sala del trono la quale era quasi perfettamente identica a quella di tecutli c'erano lo stesso seggio di giada e lo stesso trono d'avorio gli stessi divani gli stessi tappeti e gli stessi tendaggi mancava soltanto la colonna nera con le scalfiture rosse dietro la predella del trono ma si vedevano ugualmente testimonianze della violenta faida lungo il muro dietro al trono erano allineati dei ripiani coperti da lastri di vetro e su questi ripiani centinaia di teste umane perfettamente conservate fissavano gli esterrefatti spettatori con occhi imperturbabili e soltanto gli dei sapevano da quanti mesi o quanti anni topal imprecò a mezza bocca yanath invece rimase in silenzio con una luce folle negli occhi conan si accigliò perché sapeva che l'equilibrio mentale degli tlazitlani era appeso un filo all'improvviso yanath indicò le macabre e le rique con un dito tremante quella è la testa di mio fratello e quell'altra del fratello minore di mio padre e là dietro c'è quella del figlio maggiore di mia sorella improvvisamente cominciò a piagnucolare con gli occhi asciutti scosso da violenti singhiozzi non riusciva a staccare lo sguardo da quelle teste i suoi singhiozzi divennero singulti poi si trasformarono in una terrificante risata stridula e infine in un urlo insopportabile yanath era impazzito conan gli posò una mano sulle spalle e come se quel tocco avesse liberato tutta la rabbia racchiusa nel suo spirito yanath si voltò di scatto con un grido e colpì il cimmero con la spada conan parò il colpo e topal cercò di bloccare il braccio di yanath il folle però riuscì a sfuggirgli e con la bava alla bocca trapassò il petto di topal con la spada topal si accasciò a terra con un gemito e yanath ruotò per un attimo su se stesso come un derviscio impazzito poi corsa ai ripiani e cominciò a rompere il vetro con la spada urlando bestemmie conan gli fu alle spalle cercando di coglierlo alla sprovvista per disarmarlo ma il folle si voltò e gli si avventò contro con la spada strillando come un'anima dannata vedendo che il guerriero non sarebbe mai più rinsavito il cimmero si spostò di lato e mentre il maniaco colpiva l'aria gli assestò un fendente che gli staccò di netto la clavicola e il petto facendolo cadere accanto al corpo del compagno morente sua vittima conan si chinò su topal sapendo che quelli erano i suoi ultimi istanti di vita era inutile tentare di fermare il sangue che sgorgava fiotti dall'orribile ferita hai spacciato topal vuoi lasciare un messaggio per i tuoi cari avvicinati di più ansimo topal e conan lo fece un attimo dopo il cimmero fu costretto a bloccargli il polso per impedirgli di pugnalarlo al petto per crom sei impazzito anche tu l'ha ordinato olmec non so perché mentre sollevavamo i corpi dei feriti sui divani mi ha sussurrato all'orecchio di ucciderti non appena tornavamo a te curli e con il nome e con il nome del suo clan sulle labbra topal esalò il suo ultimo respiro conan lo guardò perplesso tutta quella faccenda sprigionava un alone di mistero anche olmec era pazzo tutti i tecutli erano più pazzi di quello che pensava con una scrollata di spalle ripercorse velocemente il corridoio e varcò la porta di bronzo lasciando i due tecutli davanti agli occhi impassibili delle teste dei loro parenti morti a conan non occorrevano guide per ritrovare la strada nel labirinto che avevano appena percorso il suo senso d'orientamento primitivo lo condussa infallibilmente nella direzione giusta attraversò i corridoi con la medesima cautela di prima con la spada in mano cercando pericoli nascosti in ogni anfratto e in ogni angolo perché adesso erano i suoi antichi alleati che egli temeva e non gli spiriti degli xotalanchi defunti aveva attraversato la sala grande ed era entrato nelle stanze dall'altra parte quando udì muoversi qualcosa davanti a lui qualcosa che rantolava e gemeva producendo uno strano rumore strisciante un attimo dopo conan vide un uomo che si trascinava sopra il pavimento fiammeggiante e andava verso di lui lasciando una striscia di sangue era tecotl e il suo sguardo era già vitreo si teneva una mano premuta contro la ferita profonda che aveva al petto dalla quale fiottava sangue con l'altra mano si trascinava sul pavimento conan conan olmec ha preso la donna dai capelli biondi ecco perché ha ordinato topal di uccidermi olmec non è così pazzo come credevo brancolando con le dita tecotl riuscì ad afferrare il braccio di conan nella vita fredda priva di amore e al tempo stesso orribile di tecotli l'ammirazione e l'affetto che nutriva per gli invasori giunti dal mondo esterno erano una calda oasi un legame con un'umanità più normale che ai suoi mancava completamente perché gli unici sentimenti che riusciva a provare la sua razza erano odio libidine e sadica crudeltà ho cercato di contrastarlo ma lui mi ha colpito credeva di avermi ucciso ma io sono riuscito ad allontanarmi strisciando ah set quanto mi sono trascinato nel mio stesso sangue stai attento conan olmec potrebbe averti teso un'imboscata uccidilo è una bestia prendi la tua valeria e fuggi non temere di riattraversare la foresta olmec e tascela vi hanno mentito sui draghi si sono sbranati l'un l'altro diversi anni fa tutti tranne il più forte da una decina d'anni ce n'era soltanto uno se tu l'hai ucciso non ci sono più pericoli nella foresta quello era il dio adorato da olmec e olmec gli tributava sacrifici umani i più vecchi e i più giovani di noi gettandoli legati dalle mura affrettati conan olmec ha portato valeria alla camera della la sua testa ciondolò e te kotl morì prima che battesse sul pavimento conan balzò in piedi con gli occhi ardenti come tizzoni dunque era questo il gioco di olmec prima usare gli stranieri per sbaragliare i suoi nemici e poi avrebbe dovuto immaginarlo che nella mente di quel degenerato stava covando qualcosa del genere il cimero si avviò verso tecutli a passo deciso calcolò rapidamente il numero rimasto dei suoi antichi alleati soltanto 21 compreso olmec erano sopravvissuti alla sanguinosa battaglia combattuta nella sala del trono poi ne erano morti tre per cui restavano in totale 17 nemici da tenere in conto con tutta la collera che gli ribolliva in petto conan si sentiva capace di eliminare l'intero clan con una mano sola ma l'astuzia innata del primitivo riuscì a dominare la sua rabbia cieca ricordò che tecotl l'aveva messo in guardia da un'imboscata era molto probabile che il principe avesse predisposto quell'espediente in caso topal avesse fallito nel suo compito olmec si sarebbe aspettato che tornasse per la stessa strada fatta all'andata conan alzò la testa verso il lucernario sotto il quale stava passando e vide brillare fiocchiamente le stelle le prime luci dell'alba non le avevano ancora fatte sparire gli avvenimenti di quella notte si erano susseguiti in un tempo relativamente breve deviando dal percorso che lo avrebbe portato scese per una scala al piano inferiore ignorava dove si trovassero le porte d'accesso al castello a quel livello ma era sicuro che ne avrebbe trovata una come avrebbe fatto a forzare le serrature non lo sapeva credeva che tutte le porte di tecutli fossero chiuse e sbarrate se non altro per l'abitudine di bloccarle che avevano da mezzo secolo ma non restava altro che provare con la dedalo distanze e corridoi bui o rischiarati dalla luce verde sapeva di essere vicino a tecutli quando un suono però lo bloccò lo riconobbe subito era un essere umano che tentava di urlare sotto un bavaglio veniva da un punto davanti a sinistra in quelle sale silenziose come la morte anche il più piccolo suono arrivava lontano Conan prese a sinistra seguendo il suono che seguitava eccheggiare alla fine si ritrovò ad assistere da un'arcata a una scena da brivido nella stanza era adagiata per terra una specie di griglia di ferro alla quale era legato un colosso la testa era posata su uno stuolo di smuntoni di ferro già macchiati di sangue nei punti in cui erano penetrati nel cuoio capelluto dell'uomo intorno alla fronte era stata legata una strana fascia di cuoio molto ingegnosa messa appositamente in quel modo per non proteggere la testa dagli aculei tale fascia era collegata mediante una catena sottile a un congegno che sorreggeva un'enorme palla di ferro sospesa sopra il petto villoso del prigioniero finché questo riusciva restare immobile la palla di ferro rimaneva al suo posto ma non appena il dolore arrecato dalla puntura degli aculei di ferro gli faceva sollevare la testa la palla si abbassava di qualche centimetro alla fine i muscoli doloranti del collo non avrebbero più sorretto la testa in quella posizione innaturale e questa sarebbe caduta nuovamente sugli spuntoni era ovvio che prima o poi la palla lo avrebbe schiacciato in una poltiglia lentamente e inesorabilmente la vittima era imbavagliata e sopra il bavaglio i suoi grandi occhi neri bovini roteavano selvaggiamente verso l'uomo che stava sull'uscio il quale restava in sbigottito silenzio il colosso alla tortura era Olmec principe dei 6 gli occhi di tascela perché mi hai portata in questa camera per medicarmi le gambe non potevi farlo nella sala del trono era seduta su un divano con la gamba ferita di stesa e la donna tecutli gliel'aveva appena fasciata con bende di seta la spada macchiata di sangue di valeria era posata accanto a lei sul divano mentre parlava aggrottò la fronte la donna aveva eseguito con efficienza il proprio compito in silenzio ma valeria non piaceva né il tocco carezzevole delle sue dita magre né l'espressione dei stranamente non suggeriva dolcezza né gentilezza in chi la parlava poco prima valeria aveva visto questa stessa donna pugnalare una xotalanca al petto e calpestare la fronte di uno xotalanco ferito porteranno i corpi dei morti nelle catacombe affinché i loro spiriti non fuggano nelle stanze e si rifugino qui tu credi agli spiriti so che il fantasma di tolkem capita alle catacombe le rispose la donna con un tremito una volta l'ho visto mentre mi nascondevo in una cripta tra le ossa di una regina defunta mi è passato davanti sotto forma di un vecchio dalla barba canuta e dai capelli fluenti con due occhi che sfolgoravano nel buio era tolkem da bambina l'ho visto mentre lo torturavano olme ride ma io so che il fantasma di tolkem infesta le catacombe dicono che sono i ratti a spolpare le ossa dei morti non appena vengono portati giù ma anche i fantasmi si nutrono di carne chissà cosa la ragazza alzò immediatamente la testa mentre un'ombra si posava sul divano valeria sollevò il capo e vide olmec che la guardava il principe si era ripulito dal sangue le mani il torso e la barba ma non aveva indossato la tunica e il suo grosso corpo liscio dalla pelle scura emanava un vigore bestiale nei profondi occhi neri ardeva una luce ancora più primitiva e un fremito correva nelle dita che accarezzavano la folta barbazzurra guardò severamente la donna e questa si alzò e lasciò silenziosamente la camera ma nel varcare la porta lanciò un'occhiata a valeria un'occhiata piena di cinico scherno e di volgare sarcasmo ha fatto un lavoro tirato via fammi vedere criticò il principe avvicinandosi al divano e chinandosi sulla fasciatura con una sveltezza sorprendente per uno della sua mole le sottrasse la spada e la scagliò nella stanza poi la prese tra le sue braccia gigantesche malgrado la repentinità di quella mossa inaspettata valeria riuscì quasi a essere altrettanto veloce perché mentre il colosso la afferrava prese in mano il pugnale e gli sferrò con vemenza un colpo alla gola più per fortuna che per l'uomo le bloccò il polso e allora cominciò una lotta selvaggia valeria si difendeva con i pugni i piedi le ginocchia i denti e le unghie con tutta la forza del suo magnifico corpo e tutta l'esperienza acquisita nel corpo a corpo in anni di vagabondaggi e battaglie per terra e per mare ma non le valse a niente contro quella forza bruta dopo pochi secondi perse lo stiletto e non fu più in grado di inflingere colpi dolorosi al gigantesco avversario la fiamma che ardeva nei suoi occhi non si era placata e quello sguardo la faceva infuriare ma ancora di più la irritava quel sorrisetto sarcastico che gli vedeva stampato sulle labbra barbute quegli occhi e quel sorriso avevano tutto il crudele cinismo nascosto sotto la superficie di una razza sofisticata e corrotta e per la prima volta in vita sua Valeria ebbe paura di un uomo combattere contro di lui era come lottare contro un'immane forza primitiva quelle braccia di ferro piegavano i suoi sforzi con una facilità che le metteva il panico pareva insensibile a qualunque dolore lei riuscisse a infliggergli soltanto una volta quando gli piantò i denti bianchi nel polso fino a farlo sanguinare vide a malapena una reazione e lui reagì brutalmente colpendola alla testa con tutta la mano aperta facendole balenare le stelle davanti agli occhi e reclinare la testa sulle spalle nella lotta le si era strappata la camicia e il gigante con cinica crudeltà sfregò la barba ispida sui suoi seni nudi arrossandole la pelle bianca e facendole emettere un grido di dolore e di oltraggiata furia la sua resistenza frenetica era inutile era schiacciata contro il divano disarmata e ansimante e lo guardava con due occhi fiammeggianti come quelli di una tigra in trappola un attimo dopo il colosso la sollevò nelle braccia e la portò via di corsa dalla camera valeria non fece resistenza ma il fuoco che ardeva nei suoi occhi dimostrava che il suo spirito almeno non era stato domato non aveva gridato sapeva che Conan era lontano e non le venne in mente che ci fosse qualcuno a Tecutli disposto a opporsi al proprio principe tuttavia si accorse che Olmec si muoveva fruttivamente con la testa girata da una parte come per ascoltare i rumori di un inseguitore e non tornava alla sala del trono la condusse oltre una porta opposta quella dalla quale era entrato attraversò un'altra camera e cominciò a percorrere guardingo un corridoio sicché Valeria si convinse che temeva l'opposizione di qualcuno al rapimento allora gettò indietro la testa e lanciò un urlo con tutta la voce che aveva venne ricompensata da uno schiaffo che le fece quasi perdere i sensi e Olmec affrettò il passo mettendosi a correre ma il suo grido era stato udito e Valeria girando la testa per il dolore tra le lacrime e le stelle che in parte l'accecavano vide Tecotl che zoppicava dietro loro Olmec si voltò ringhiando e si mise la donna sotto il grosso braccio in una posizione scomoda e certamente poco dignitosa e la tenne ferma lì nonostante scalciasse e si divincolasse come una bambina Olmec non puoi essere tanto carogna da fare questo quella è la donna di Conan ci ha aiutati a uccidere gli Xodalanchi e senza dire una parola Olmec sferrò un gigantesco pugno al guerriero e lo mandò disteso per terra abbassandosi per nulla intralciato dai calci e dalle imprecazioni della prigioniera sfilò dal fodero la spada di Tecotl e gliela piantò nel petto poi dopo aver estratto la lama fuggì per il corridoio non vide la faccia di una donna che lo spiava cautamente da dietro una tenda il viso sparì e subito dopo Tecotl riprese i sensi si rimise in piedi barcollando completamente stordito e andò in cerca di Conan chiamando il suo nome Olmec arrivò alla fine del corridoio e scese per una scala d'avorio attraversò diversi corridoi e alla fine si fermò in un'ampia stanza le cui porte erano schermate da pesanti tendaggi con un'unica eccezione una massiccia porta di bronzo simile alla porta dell'aquila del piano superiore Olmec l'indicò e disse con soddisfazione questa è una delle porte di Tecotli che danno sull'esterno per la prima volta dopo 50 anni non è sorvegliata ormai non ce n'è più bisogno dal momento che Xotalank non esiste più grazie a Conan e a me razza di pazzo sanguinario cane traditore Conan ti taglia la gola per questo Olmec non si dette pena di dirle che credeva Conan già morto grazie all'ordine da lui impartito era troppo cinico per interessarsi e pensieri alle opinioni di lei i suoi occhi ardenti la divoravano indugiando avidi sulla generosa distesa di pelle bianca esposta al suo sguardo nei punti in cui la camicia e i pantaloni erano strappati dimentica Conan è Olmec il signore di Xotalank non esiste più non ci saranno più combattimenti passeremo la vita a bere e a fare l'amore ma prima di tutto beviamo si mise seduta a un tavolo d'avorio e se la tirò sulle ginocchia simile a un satiro dalla pelle scura con una bianca ninfa tra le braccia ignorando le proteste di lei poco consone a una ninfa la sorresse con il grosso braccio intorno alla vita mentre con l'altro raggiungeva un boccale di vino posato sul tavolo bevi le ordinò avvicinandole con forza la coppa alle labbra mentre la ragazza ritraeva la testa il liquore traboccò pungendole le labbra e magnandole i seni nudi la tua ospite non gradisce il tuo vino Olmec disse una voce fredda e sarcastica Olmec si irrigidì e nei suoi occhi ardenti apparve la paura lentamente girò la testa e vide Tascela che se ne stava appoggiata con aria incurante ai tendaggi della porta con una mano sul fianco liscio Valeria si dibatté nella stretta di ferro del colosso per riuscire a girarsi e quando incrociò gli occhi brucianti di Tascela avvertì un brivido per tutta la schiena nuove esperienze stavano travolgendo lo spirito orgoglioso di Valeria quella notte aveva appena imparato ad avere paura di un uomo e adesso sapeva che cosa voleva dire temere una donna Olmec rimase immobile mentre un grigio pallore gli si diffondeva sotto la pelle scura Tascela fece vedere la mano che fino a quel momento teneva nascosta dietro la schiena e stringeva una piccola coppa d'oro temevo che il tuo vino non le sarebbe piaciuto Olmec così ne ho portato un po' del mio lo portai con me molto tempo fa dalle rive del lago Zuad tu capisci a quale mi riferisco vero Olmec? la fronte di Olmec cominciò a imperlarsi improvvisamente di sudore i suoi muscoli si rilassarono e Valeria liberandosi dalla sua stretta agguantò il tavolo e lo frappose fra loro due ma anche se la logica le suggeriva di schizzare via come un fulmine da quella camera una strana malia la tratteneva lì a guardare irrigidita la scena Tascela si portò davanti al principe con un'andatura sinuosa e ondeggiante palesemente beffarda la sua voce era suave e carezzevole ma gli occhi lampeggiavano con le dita sottili giocherello scherzosamente con la sua barba sei un egoista Olmec vorresti tenerti la nostra bella ospite tutta per te pur sapendo che desideravo anch'io intrattenermi con lei che grave indelicatezza Olmec per un attimo le cadde la maschera i suoi occhi fiammeggiarono la faccia divenne torva e con una stupefacente dimostrazione di forza con la mano gli strappò con violenza un ciuffo di barba quella manifestazione di forza innaturale non era più terrificante dell'esplosione momentanea della furia infernale che le divampava dentro sotto quella finta dolcezza Olmec balzò in piedi con un ruggito e traballò come un orso serrando e riaprendo convulsamente le poderose mani sgualdrina la sua voce tonante cheggiò nella stanza strega diavolessa te cutli avrebbe dovuto ucciderti cinquant'anni fa vai via ho già sopportato troppo da te questa donna dalla pelle bianca è mia vattene prima che ti uccida la principessa rise e gli gettò in faccia i peli dalla barba rossi di sangue era una risata più spietata del suono della selce sull'acciaio una volta non mi si parlava in questo modo vero Olmec una volta quando eri giovane mi dicevi parole d'amore si un tempo eri il mio amante e poiché mi amavi dormivi tra le mie braccia sotto il loto incantato e così hai messo nelle mie mani le catene che ti hanno incatenato lo sai che non puoi resistermi lo sai che non devo fare altro che guardarti negli occhi con il mistico potere che un sacerdote dell'astigia mi segnò tanto tempo fa e tu sarai impotente ricordi quella notte sotto il loto nero che ondeggiava sopra di noi mosso da una brezza non terrena non senti di nuovo la fragranza di quei profumi ultraterreni che si sollevavano come una nuvola e ti circondavano per imprigionarti non puoi lottare contro di me sei uno schiavo come lo sei stato quella notte come lo sarai finché avrai vita Olmec di Xutol la sua voce si era mutata in un sussurro simile al mormorio di un ruscello che scorre nella notte stellata si chinò sul principe e gli posò sul petto massiccio le lunghe dita affusolate gli occhi del colosso divennero vitrei e le sue grosse mani ricaddero inerti sui fianchi con un sorriso perfidamente crudele Tashela sollevò la coppa e gliela avvicinò alle labbra bevi come un automa il principe le obbedì un secondo dopo quello sguardo vitreo scomparve e i suoi occhi fiammeggiarono di furia intendimento e terrore spalancò la bocca ma non ne uscì alcun suono per un attimo vacillò sulle ginocchia che si piegavano poi cadde come un sacco sul pavimento il tonfo destò Valeria dalla paralisi la ragazza si girò e si lanciò verso la porta ma Tashela con una rapidità che avrebbe fatto invidia ad una pantera con un balzo felino le si parò davanti Valeria la colpì con un pugno nel quale mise tutta la forza del suo agile corpo avrebbe steso un uomo sul pavimento ma Tashela con una lieve torsione del busto schivò il colpo e afferrò il polso della pirata in un attimo imprigionò la mano sinistra di Valeria quindi tenendole entrambi i polsi stretti con una mano li legò con calma con una corda che prese dalla cintura Valeria pensava di avere già assaporato l'ultima umiliazione per quella notte ma la vergogna che aveva provato nel sentirsi in balia di Olmec non era nulla in confronto alle emozioni che ora le scuotevano il flessibile corpo Valeria era sempre stata inclina a disprezzare gli altri membri del proprio sesso e incontrare un'altra donna che poteva trattarla come una bambina la sconvolgeva completamente oppose appena resistenza quando Tashela la costrinse a sedersi su una sedia e immobilizzando i polsi tra le ginocchia ve la legò calpestando con non curanza Olmec Tashela si diresse alla porta di bronzo le tolse il catenaccio e la spalancò rivelando un corridoio lungo questo corridoio disse parlando la sua prigioniera per la prima volta c'è una camera che anticamente veniva usata come una stanza delle torture quando ci ritirammo dentro dei cultri portamo con noi gran parte degli strumenti ma ce n'è uno troppo pesante da spostare funziona ancora perfettamente e credo che ora farà proprio al caso nostro negli occhi di Olmec si è acceso un lampo di intendimento e di terrore Tashela tornò da lui si chinò e lo afferrò per i capelli è paralizzato solo temporaneamente può sentire pensare e provare emozioni sì può sentire tutto con questa osservazione sinistra si avviò verso la porta trascinando il gigante con una facilità che fece sgranare gli occhi alla pirata passò in corridoio e lo percorse senza esitazione e in un attimo scomparve con il prigioniero in una stanza dal cui interno poco dopo giunse un clangore di ferro Valerje imprecò a bassa voce e tentò vanamente di liberarsi dalle corde che lei mobilizzavano le gambe contro la sedia ma quelle sembravano indistruttibili poco dopo Tashela tornò sola dietro a lei uscivano dalla stanza gemiti soffocati chiuse la porta senza tirare il catenaccio Tashela non era schiava delle abitudini come non era schiava degli istinti e delle emozioni umane Valeria restò seduta in silenzio guardando la donna nelle cui esili mani se ne rese conto adesso per la prima volta posava il proprio destino Tashela la ferrò per i riccioli biondi costringendola a reclinare la testa e la guardò impassibile in faccia lo scintillio dei suoi occhi scuri però era molto eloquente ti ho prescelta per un grande onore tu restituirai la giovinezza a Tashela oh non guardarmi a quel modo ho l'aspetto di una ragazza ma nelle mie vene si sta insinuando il gelo dell'imminente vecchiaia che ho già sentito centinaia di volte sono vecchia talmente vecchia da non ricordare più la mia infanzia ma un tempo ero una fanciulla e un sacerdote stigiano si innamora di me rivelandomi il segreto dell'immortalità e dell'eterna giovinezza in seguito morì avvelenato dissero alcuni ma io vivevo nel mio palazzo lungo l'erivo del lago Suad e il passare degli anni non mi sfiorava così alla fine un re della stigia si invaghi di me e il mio popolo si ribellò e mi condusse in questa terra Olmec mi chiamava principessa io non sono di sangue reale sono più grande di una principessa sono Tascela e sarà la tua splendida gioventù a restituirmi la giovinezza la lingua di Valeria si era incollata al palato avvertivo un mistero ancora più profondo della degenerazione che aveva sospettato la donna sciolse i polsi dell'aquiloniana e la fece alzare in piedi non era la paura della forza Erculea che si nascondeva nelle braccia della principessa a fare di Valeria una prigioniera inerme e tremante nelle sue mani ma erano gli occhi gli occhi ipnotici ardenti e terribili di Tascela 7 colui che arriva dalle tenebre allora io sono un cuscita Conan guardò l'uomo disteso sulla griglia di ferro che diavolo ci fai tu su quell'attrezzo dal bavaglio giunsero dei suoni incomprensibili allora Conan si chilò e glielo tolse provocando uno spavento terribile al prigioniero perché il suo intervento aveva fatto abbassare la palla di ferro quasi fino a sfiorargli il petto sta attento in nome di Seth e perché credi che mi importi qualcosa di quello che ti succederà mi dispiace soltanto di non avere il tempo di restare qui a guardare quella palla di ferro che ti schiaccia le budella purtroppo vado di corsa dov'è Valeria liberami e io ti dirò tutto prima parla mai e va bene la troverò da solo dopo averti visto ridotto in gelatina credo proprio di riuscire ad accelerare la cosa girandoti la punta della spada dentro all'orecchio aspetta me l'ha portata via Tascela io sono stato un semplice burattino nelle mani di Tascela di Tascela quella sporca no no è anche peggio di quanto immagini Tascela è vecchia vecchia di secoli rinnova la propria vita e la giovinezza sacrificando belle donne giovani questa è una delle cause che hanno ridotto il clan in questo stato succhierà l'essenza vitale di Valeria e la trasporterà nel proprio corpo ed essa le darà nuova forza e bellezza le porte sono tutte chiuse certo ma io conosco un modo per arrivare dentro Tecutli lo conosciamo soltanto io e Tascela e lei crede me inoffensivo e te morto liberami e giuro che ti aiuterò a salvare la tua Valeria senza il mio aiuto non riuscirai mai ad entrare a Tecutli perché se anche mi torturassi per farmi rivelare il segreto non sapresti come servirtene lasciami andare e insieme prenderemo Tascela la sprovvista e l'uccideremo prima che possa ricorrere alla sua magia prima che posi gli occhi su di noi ci penserà un coltello che le colpirà alle spalle avrei dovuto ucciderla in questo modo molto tempo fa ma temevo che senza il suo aiuto ixotalanchi ci avrebbero sopraffatti e anche a lei occorreva il mio aiuto e questa l'unica ragione per cui io sono ancora vivo adesso non abbiamo più bisogno l'una dell'altra e uno dei due deve morire ti giuro che quando avremo ucciso quella strega tu e Valeria sarete liberi di andarvene senza alcun impedimento la mia gente mi obbedirà quando Tascela sarà morta Conan si chinò sul principe e tagliò le corde che lo imprigionavano e Olmec scivolò cautamente sotto la grande palla di ferro e si rialzò scuotendo la testa taurina e mormorando delle imprecazioni mentre si toccava con le dita la nuca ferita messi spalla a spalla i due uomini creavano un quadro formidabile di forza primitiva Olmec era alto come Conan e più massiccio ma il Tlazitlano aveva qualcosa di repellente qualcosa di abissale di mostruoso che contrastava con la compattezza scultorea del Cimero Conan si era tolto la camicia strappata e macchiata di sangue e la massa muscolare si rivelava in tutta la sua potenza le grandi spalle erano larghe come quelle di Olmec ma il taglio era più netto e l'enorme petto si inarcava verso la vita robusta con una curvatura impressionante che mancava al tronco panciuto di Olmec avrebbe potuto essere benissimo una statua di bronzo rappresentante la forza primitiva la pelle di Olmec era più scura ma non per via dell'esposizione al sole se Conan pareva uscito dall'alba dei tempi Olmec era un'immagine cupa e slegata uscita dalle tenebre dei primordi del tempo fammi strada e rimani davanti a me non mi fido di te più che di un toro preso per la coda Olmec lo precedette e lo guidò massaggiandosi la barba strappata Olmec non condusse nuovamente Conan alla porta di bronzo supponendo che Tascello ovviamente l'avesse sbarrata ma in una certa stanza al confine di Tecutli questo segreto viene protetto da mezzo secolo neppure il nostro clan ne ha conoscenza e gli Xotalanchi non l'hanno mai scoperto fu Tecutli in persona a costruire questa entrata segreta uccidendo successivamente tutti gli schiavi che compirono il lavoro temeva di potersi ritrovare un giorno chiuso fuori dal proprio regno a causa di Tascella la cui passione per lui si era mutata presto in odio ma Tascella scoprì il segreto e un giorno che lui tornava da un'incursione in territorio nemico e la sbarro la porta segreta e gli Xotalanchi lo presero e lo scuoiarono vivo una volta però mentre la spiavo l'ho vista entrare a Tecutli per questa strada e così ho scoperto il segreto poi Olmec pigiò un fregio dorato che sporgeva dal muro e un pannello si aprì verso l'interno rivelando una scala d'avorio che portava di sopra questa scala è costruita all'interno del muro conduce alla torre sul tetto e da lì si dipartono altre scale che scendono alle varie camere affrettati dopo di te camerata ribatte Conan con sarcasmo agitando lo spadone e Olmec con un'alzata di spalle salì sulla scala Conan lo seguì immediatamente e la porta si richiusa alle loro spalle su in alto un grappolo di pietre di fuoco faceva sembrare la cupa scalinata l'antro di un drago seguitarono a salire fino a quando Conan calcolò che erano arrivati sopra il quarto piano poi sbucarono in una torre cilindrica nel cui tetto a volta erano incastonate le pietre di fuoco che rischiaravano le scale attraverso le finestre dalle grate d'oro chiuse da pannelli di cristallo infrangibile le prime che vedeva Xucotl Conan distinse alte tettoie cupule e torri profilate minacciosamente contro le stelle aveva davanti i tetti di Xutol Olmec non perse tempo a guardare dalle finestre scese di corsa una delle scale che si snodavano dalla torre e la rampa quando ebbero fatti alcuni scalini divenne uno stretto corridoio che si estendeva tortuosamente per diversi metri il corridoio terminava davanti una ripida scalinata che scendeva in basso arrivati lì Olmec si fermò dal basso soffocato ma inequivocabile giungeva infatti un grido di donna che cheggiava di paura di rabbia e di vergogna e Conan riconobbe la voce di Valeria in preda a un furioso impeto di collera mentre si chiedeva quale pericolo poteva mai strappare un urlo simile all'indomita Valeria Conan dimenticò Olmec travolgendo il principe nella corsa si lanciò per le scale ma l'istinto lo fece girare di colpo immediatamente nel momento esatto in cui Olmec sferrava un pugno micidiale come un maglio il colpo potente e silenzioso era diretto alla base del cranio di Conan il cimero però si voltò in tempo per riceverlo al lato del collo anziché alla nuca la botta avrebbe spezzato le vertebre a un uomo normale Conan barcollò all'indietro ma nel momento stesso in cui perdeva l'equilibrio lasciò cadere la spada inutile a quella distanza ravvicinata e afferrò il braccio teso di Olmec trascinandolo con lui nella caduta rotolarono avvinghiati per le scale in una girandola di braccia gambe e teste e mentre ruzzolavano giù le dita di ferro di Conan trovarono la gola taurina di Olmec serrandola il collo e la spalla del barbaro si erano intorpiditi dopo il poderoso pugno sferrato da Olmec nel quale il colosso aveva messo tutta la forza del suo avrambraccio del muscoloso tricipite e delle sue possenti spalle ma lo stordimento non mitigò la sua furia Conan tenne la presa come un mastino mentre rotolavano e battevano sulle scale finché alla fine urtarono contro una porta d'avorio con tale violenza da spaccarla in due e farla schiantare in terra ma Olmec era già morto perché quelle dita di ferro gli avevano spezzato il collo e levato la vita durante la caduta Conan si alzò scrollandosi dalle poderose spalle le schegge della porta e togliendosi la polvere e il sangue dagli occhi si trovava nella grande sala del trono oltre lui c'erano 15 persone all'interno la prima che vide fu Valeria innanzi alla predella del trono era stato eretto uno strano altare nero intorno al quale su candeglieri d'oro avevano collocato sette candele che esalavano densi riccioli di fumo verde dall'odore molesto le spirali di fumo si condensavano in vapore sotto la volta del soffitto formando un arco sopra l'altare sull'altare avevano disteso Valeria completamente nuda la cui pelle bianca risaltava in netto contrasto contro il marmo colorebano non era legata era tutta distesa con le braccia protese sopra la testa al capo dell'altare era inginocchiato un giovane che le teneva saldamente i polsi all'altra estremità era inginocchiato una donna che le serrava le caviglie in quella stretta Valeria non poteva alzarsi né muoversi undici uomini e donne di Tecutli erano inginocchiati in silenzio in semicerchio e seguivano la scena con occhi avidi e bramosi sul trono d'avorio si dondolava tascela vasi bronzei di incenso disposti tutti intorno a lei l'avviluppavano nelle loro volute le spirali di fumo si arricciavano intorno alle sue membra nude carezzandola con sapienti dita la donna non riusciva a stare ferma si dimenava e fremeva con sensuale abbandono come se trovasse piacere nel contatto dell'avorio con la pelle liscia lo schianto della porta che crollava all'impatto con i due corpi abbinghiati non alterò quella scena i sudditi inginocchiati si limitarono a lanciare una fredda occhiata al cadavere del loro principe e all'uomo che si rialzava tra le schegge della porta quindi tornarono a guardare cupidamente il corpo bianco che si contorceva sull'altare nero tascela guardò il cimero con insolenza e tornò ad adagiarsi lanquidamente sul trono schernendolo con una risata sgualdrina Conan vide rosso con i pugni serrati come martelli di ferro venne avanti verso di lei al primo passo si udì un forte clangore e un oggetto d'acciaio gli addentò la gamba Conan barcollò e quasi cadde fermato nello slancio i denti di una trappola di ferro gli avevano azzannato la gamba conficcandosi saldamente in profondità soltanto i muscoli possenti del polpaccio avevano impedito che si spezzasse l'osso quella tagliola maledetta era uscita dal pavimento fiammeggiante senza preavviso solamente adesso vedeva le guide nascoste nel pavimento dove avevano cammuffato perfettamente le ganasce sciocco credevi davvero che non avrai preso precauzioni contro un tuo possibile ritorno ogni porta di questa sala è dotata di trappole simili adesso rimani dove sei e guarda mentre compio il destino della tua bella amica dopo deciderò il tuo la mano di Conan andò istintivamente al cinturone ma solo per trovare il fodero della spada vuoto l'aveva lasciata sulle scale il pugnale invece era rimasto nella foresta dove il drago se l'era strappato dalla mascella i denti d'acciaio della tagliola gli bruciavano la pelle come tizioni roventi ma il dolore non era nulla paragonato alla furia che gli incendiava l'anima era in trappola come un lupo se avesse avuto la spada si sarebbe tagliato la gamba e si sarebbe trascinato sul pavimento pur di uccidere Tascella gli occhi di Valeria si voltarono verso di lui in un muto appello e l'impotenza cui era costretto gli scatenò nel cervello rosse ondate di follia inginocchiandosi sulla gamba libera cercò di infilare le dita tra i denti della trappola per spezzarli con la forza bruta dai polpastrelli fiotto sangue ma le ganasce gli serravano il polpaccio in un semicerchio così perfettamente aderente da non lasciare il minimo spazio tra la carne martoriata e le zanne di ferro la vista del corpo nudo di Valeria non fece altro che infiammare ulteriormente la sua rabbia Tascella lo ignorò alzandosi languidamente dal trono passò in rassegna tutti i suoi sudditi e chiese loro dove sono Xamexlanatektacic? non sono più tornati dalle catacombe principessa come noi hanno portato i corpi dei morti alle cripte ma non sono tornati forse gli ha presi il fantasma di Tojgemek taci stupido il fantasma è una leggenda scese dal trono giocherellando con il suo stiletto dall'elsa d'oro solamente all'inferno sarebbe stato possibile trovare occhi così ardenti si fermò accanto all'altare e parlò nel silenzio carico di tensione la tua vita mi renderà nuovamente giovane donna bianca mi chinerò sul tuo petto e appoggerò le mie labbra alle tue e lentamente lentamente insinuerò questa lama nel tuo cuore affinché la tua vita lasciando il corpo che si irrigidisce entri nel mio facendomi rifiorire di giovinezza e di vita eterna con estrema lentezza come un serpente che si inarca verso la propria vittima Tascela si chinò tra le volute di fumo avvicinandosi sempre più alla donna adesso immobile che fissava i suoi occhi scintillanti occhi che diventavano più grandi e più profondi risplendendo tra il fumo vorticoso come due lune nere i sudditi in ginocchio giunsero le mani e trattennero il respiro trepitando d'attesa per il momento culminante del rito l'unico suono che si sentiva era l'ansimare di Conan che lottava con tutte le proprie forze per liberare la gamba dalla trappola tutti gli occhi erano incollati all'altare e alla bianca figura che vi giaceva neanche il boato di un tuono avrebbe potuto rompere l'incantesimo eppure fu un grido sommesso a far muovere la scena e a creare panico tutti intorno un grido sommesso ma tale da far drizzare i capelli tutti si voltarono guardarono e videro nella cavità della porta alla sinistra del trono era incorniciato una figura da incubo era un uomo con una massa incolta e aggrovigliata di capelli canuti e la barba bianca e sporca che gli scendeva sul petto degli stracci gli coprivano appena il corpo scheletrico lasciando scoperte le membra seminude che parevano finte la pelle non era quella di un normale essere umano sembrava ricoperta di squame come se avesse vissuto a lungo in condizioni non adatta alla vita umana e non c'era niente di umano negli occhi che fiammeggiavano sotto il groviglio dei capelli bianchi erano due grandi sfere biancastre scintillanti dallo sguardo fisso luminoso senza la minima parvenza di razionalità o di equilibrio la bocca si aprì ma ne uscirono soltanto balbetti incomprensibili Tolkemec mormorò Tashela livida in viso mentre gli altri si rannicchiavano sul pavimento in preda a un indicibile orrore non è un mito non è un fantasma per set hai vissuto dodici anni nell'oscurità dodici anni tra le ossa dei morti con quale cibo ti sei intrito quale folla parodia di vita hai vissuto nelle tenebre della notte eterna ora capisco perché Xamec Slanat e Tachik non sono più tornati dalle catacombe e mai lo faranno ma perché hai aspettato così tanto a colpire cercavi forse qualcosa nelle cisterne qualche arma segreta che vi sapevi nascosta e l'hai trovata alla fine un orrendo balbettio fu l'unica risposta di Tolkemec mentre balzava nella stanza con un lungo salto che gli fece superare la trappola segreta situata davanti alla porta per caso forse o perché aveva una vaga reminiscenza delle usanze di Xucotl non era matto nel senso comune del termine aveva vissuto segregato dall'umanità talmente a lungo che ormai non si poteva più definire umano soltanto un filo intatto di memoria cristallizzato sin odio e desiderio di vendetta lo aveva tenuto legato a quell'umanità dal quale era stato tagliato fuori facendola girare vicino a coloro che odiava soltanto quell'esile cordone gli aveva impedito di correre brancolare per sempre negli oscuri corridoi di quel regno sotterraneo che aveva scoperto molto tempo prima tu cercavi qualcosa e l'hai trovata non hai dimenticato la faida dopo tutti questi anni vissuti nell'oscurità tu la ricordi ancora perché nella mano scheletrica di Tolkemec ondeggiava ora una strana bacchetta colorgiada alla cui estremità luccicava un bulbo cremesi a forma di melagrana la donna si spostò di colpo non appena vide che lo lanciava verso di lei come se fosse una sfera e dalla melagrana sgorgò una fiammata rossa mancò tascela ma prese la donna che teneva strette le cabiglie di Valeria conficcandosi tra le sue scapole con un crepitio secco il raggio di fuoco le riuscì lampeggiando dal petto e colpì l'altare nero schizzando scintille azzurre la donna cadde di fianco avvizzendo e polverizzandosi come una mummia prima ancora di toccare il pavimento Valeria rotolò dall'altra parte dell'altare e si mosse carponi verso il muro opposto perché nella sala del trono del defunto Olmec era scoppiato l'inferno l'uomo che tratteneva Valeria per i polsi fu il successivo a morire tentò di correre ma prima di aver fatto cinque passi Tolkemec con un'agilità sbalorditiva per quel fragile corpo si spostò in una posizione che fece ritrovare l'uomo tra lui e l'altare il fascio di fuoco rosso schizzò nuovamente e il tecuzli rotolò esanime sul pavimento mentre il raggio completava il suo corso con uno scoppio di scintille azzurre contro l'altare e poi cominciò il massacro urlando come pazzi cercarono tutti di uscire dalla sala ammassandosi urtandosi e cadendo e in quella barahonda Tolkemec piroettava e saltellava seminando morte dalle porte non si poteva uscire perché il loro metallo serviva come i sostegni metallici dell'altare a completare il circuito del potere infernale che si sprigionava dalla bacchetta stregata agitata dal vecchio quando vedeva un uomo o una donna posizionato tra lui e una porta o tra lui e l'altare la vittima prescelta moriva all'istante non aveva bersagli in particolare colpiva come capitava mentre gli stracci gli svolazzavano intorno alle braccia agitate e gli echi dei suoi farfugliamenti riempivano la sala superando le urla un guerriero spinto dalla disperazione gli corse incontro con il pugnale alzato soltanto per cadere prima di colpire tutti gli altri invece sembravano una mandria impazzita che non pensava resistere e non aveva possibilità di scappare l'ultimo tecutli a eccezione di Tascela era caduto quando la principessa raggiunse il cimero e la ragazza che si era rifugiata da lui Tascela si chinò e toccò il pavimento premendo un disegno impresso sulla mattonnella le ganasce di ferro lasciarono immediatamente la gamba sanguinante di Conan e tornarono dentro il pavimento uccidilo se puoi non ho abbastanza potere per contrastarlo con un grugnito Conan si mise davanti alle due donne dimenticando la gamba martoriata nella bramosia del suo combattimento Tolkemec stava venendo dritto verso di lui con due occhi folli ma vedendo luccicare il pugnale nella mano di Conan esitò il pugnale gli era stato messo nelle mani dalla stessa Tascela e Conan cominciò così un macabro gioco con Tolkemec che girava intorno al barbaro nella speranza di portarlo tra lui e l'altare o una porta di metallo mentre Conan cercava di evitarlo e sferrava colpi con il pugnale le due donne assistevano col fiato sospeso non si udiva alcun suono tranne il rapido trapestio dei piedi che si spostavano Tolkemec aveva smesso di saltellare e piroettare si era reso conto che non aveva più di fronte quella gente che era morta strillando e scappando negli occhi del barbaro in cui ardeva una fiamma primordiale leggeva la sua stessa determinazione a uccidere si spostavano avanti e indietro e quando l'uno si muoveva anche l'altro lo faceva come se fossero legati da fili invisibili ma Conan nel frattempo si stava avvicinando sempre di più all'avversario i muscoli tesi delle cosce cominciavano a flettersi e a raccogliersi per l'assalto quando Valeria lanciò un urlo per un breve istante la porta di bronzo fu in linea con il corpo in movimento di Conan e il fascio rosso fu riuscì dalla bacchetta bruciacchiando il fianco di Conan mentre questo si girava e lanciava il suo coltello il vecchio Tolkemec cadde giù stavolta ucciso veramente con l'elsa della lama che seguitava a vibrare nel suo petto Tachela fece un balzo non verso Conan ma verso la bacchetta la quale scintillava sul pavimento come una cosa viva ma insieme a lei scattò anche Valeria che aveva afferrato il pugnale di un morto e la lama piantata con tutta la forza dei muscoli della pirata trapassò al torace la principessa di Tecutli riuscendo di punta tra i suoi seni trascela lanciò un urlo e cadde morta e Valeria la scansò con il tocco dello stivale dovevo farlo se volevo ancora avere rispetto di me stessa bene finalmente la faida è finita è stata una notte d'inferno dove tenevano il cibo questi qui io sono affamato prima devi fasciarti quella gamba Valeria strappò una striscia di seta da una tenda e la legò intorno alla vita poi fece altre striscette più sottili e le avvolse sapientemente intorno al polpaccio ferito del barbaro posso camminare andiamocene è l'alba fuori da questa città infernale ne ho abbastanza di Xucotl è un bene che questa razza si sia sterminata da sola e non voglio neanche le loro gemme maledette potrebbero essere stregate ce ne sono abbastanza nel mondo sia per me che per te disse lei raddrizzando la schiena e camminando splendidamente retta davanti a lui negli occhi di Conan tornò a bruciare l'antica fiamma e stavolta lei non oppose resistenza quando la prese appassionatamente tra le braccia c'è molta strada fino alla costa disse Valeria dopo un po' staccando le labbra da quelle di lui che importa non c'è niente che possa resisterci metteremo piede sul ponte di una nave prima che gli stigiani aprano i porti per la stagione commerciale e allora tu ed io mostreremo al mondo che cosa significa saccheggiare fine la locanda della tormenta è stata lieta di presentare Conan chiodi rossi grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto